Allora, io come faccio con tutti i miei ospiti, per non sbagliare, questa è una cosa che ho imparato nella mia breve carriera di intervistatore, faccio presentare direttamente l'ospite, così evito di dire cavolate. Quindi chi è Immanuel Cast, cosa fa nella vita? Perfetto, che in realtà non è semplicissimo. Comunque, allora, a livello professionale sono un cantautore, un game designer e da circa un anno sono presidente del Mesa Italia, che è la più importante associazione che si occupa di plus dotazione, poi sono piuttosto attivo diciamo come media personality insieme a progetti di sensibilizzazione e divulgazione legati a tematiche LGBT. In soldone. In soldone. Beh, ci sta. Intanto adesso poi andiamo a sviscerare ognuna di queste tematiche. Perfetto. Raccontami, come sei arrivato a decidere di pubblicare le canzoni su YouTube? Perché le canzoni che tu porti sono canzoni che hanno comunque in sé delle, chiamiamole così, dei tabù sessuali che forse fino a quel momento su YouTube non erano mai stati affrontati in quel modo. Poi, se vuoi parlarmene tu, però, la cosa che mi incuriosisce è come hai deciso e con quale fine hai optato per questo strumento di comunicazione, cioè la musica, per portare a galla quelle che sono le tematiche che ti stanno più a cuore. Allora, ti devo dare una risposta onesta, nel senso che quando ho iniziato questo tipo di percorso non c'era una reale intenzionalità. Era un progetto artistico. Marco, ti posso chiedere quanti anni hai? 30, ok, nei sette meno di me. Quando ho iniziato, io torno al 2004, che mi sembra sempre di raccontare tipo dell'ottocento, ma fatto sta che in quel periodo non c'era Facebook, muoveva ai primi passi, a malapena c'era YouTube, il social network era MySpace. Io ho iniziato su MySpace. Sono stato all'epoca una di quelle che venivano definite web celebrity. Adesso non vuol più dire niente questo termine perché non c'è una reale soluzione di continuità, insomma, tra altri tipi di media e appunto il web. Ma all'epoca c'era. E pensa che all'epoca, ti racconto com'era la mia giornata tipo. Io lavoravo in un'agenzia di grafica e comunicazione tutti i giorni, dalla mattina fino alle 4, poi dalle 5 fino alle 9 frequentavo un'accademia d'arte drammatica professionale e la sera studiavo per l'università. Nel tempo libero, per divertirmi, scrivevo canzoni su droga, prostituzione e via dicendo. Sono diventato famoso con queste. E che fra l'altro è anche indicativo magari di come funzionino le cose. Ma scusami, quindi diciamo che hai iniziato, possiamo dire che hai iniziato per gioco? Vabbè che è un cliché questa volta, però in quel caso è vero. Assolutamente sì, e fra l'altro gioco non è un termine che mi offenda per niente. Ogni volta che devo rispondere alla domanda cos'è la cosa che più ti piace fare al mondo, io vorrei rispondere in inglese to play. Creo giochi, sono un game designer, sono sempre stato un nerdo appassionatissimo di giochi da tavolo. Anche in inglese è una commedia e play, to play a character, to play a song, to play an instrument. Insomma, quel contesto un po' magico che è la finzione artistica. A me interessa questo. Quindi assolutamente ho cominciato per gioco. Ero un trollant eliteram. Mi piaceva costruire questo effetto del tipo, ma l'ha detto davvero? Ma scusami, questo ci è o ci fa? Con un'immagine estetica, pop patinata, che per l'epoca era veramente molto patinata. Cioè erano artisti mainstream che non avevano video curati come i miei. Ti sto parlando di 14 anni fa, eh? Quindi il progetto nasceva come provocazione un po' dadaista e nato proprio così, per divertimento. Poi è stato attorno al 2009, quando ho creato l'etichetta, al manager, che è iniziato a diventare un percorso professionale. E gli ho iniziato a metterci un'intenzionalità professionale, ma anche autoriale. Cosa voglio raccontare? Cosa voglio fare? All'inizio era un'operazione di rottura. Quindi non te lo spaccio come un disegno nato così sin dall'inizio. Ma hai avuto l'effetto che ti immaginavi? Cioè quando hai caricato i tuoi primi video su YouTube, la gente ha reagito come tu pensavi o ci sono state delle reazioni diverse? Non pensavo molto. Non pensavo molto. Considera che i primi articoli usciti su di me, quando ho avuto i primi assaggi, ma ero un ragazzino, eh? Cioè i primi assaggi così di celebrità, erano legati al fatto che io avessi aperto, ora scandisco bene queste parole, perché erano il focus, un blog con degli MP3 in streaming. Cioè questa era la notizia, per farti capire. Era la notizia. Quindi no, ero lusingato di essere visto come un pioniere. E il tutto con canzoni che magari parlavano di buccacche. Quindi era un'operazione artistica e no, la risposta è stata entusiasmante, è stata entusiasmante, bella, positiva. E non hai ricevuto magari quanta omofobia è arrivata dai tuoi video? Cioè quanta omofobia hai sollevato e quante rispetto a quella che magari ti aspettavi? Allora, ma sai che devo dirti? Che non è un problema che io abbia mai particolarmente patito, o anche delle mie idee a riguardo, ma sicuramente ho ricevuto anche delle reazioni negative. Tra l'altro adesso mi devo anche sforzare per ricordarmi quale fosse la mia reazione all'epoca, perché adesso ho sviluppato ovviamente un tale livello, insomma, di, ma no, brutto dire, insensibilità. Però, insomma, ho il focus sul fatto che è un progetto artistico, che è un prodotto, che è un personaggio, e quindi lo vedo con il giusto distacco. Sono gratificato dai riscontri positivi, prendo quelli negativi per chiedermi dove possono essere migliorativi, ma senza un reale impatto, no? Mentre all'epoca ovviamente sì, questo poteva averlo. Però la direzione non era quella dell'omofobia, e secondo me, perché, in quello che ho fatto c'è sempre stata un'enorme componente autoironica, e sostanzialmente se sei poi tu il primo a dirlo, è difficile che poi gli altri possano usarlo contro di te. Anzi, all'inizio avevo un seguito enorme tipo tra i metallari, o comunque tra comunità che generalmente non avremmo associato a un tipo di intrattenimento come quello che offrivo io. E sì, io credo che sia legato appunto a questo registro estremamente autoironico che ho utilizzato sin dall'inizio. Sì, direi che è questo. Non mi vengono in mente particolari episodi. E fra l'altro è una cosa piuttosto buffa, che durante tutta la mia carriera, prima in ambito tipografico, poi in ambito ludico, i problemi più grossi che ho avuto a livello di risposte negative, tradotte in ben quattro interrogazioni parlamentari, un procedimento penale per incitazione all'omicidio, perché con la motivazione che nei miei giochi i personaggi muoiono. Vabbè, qua è chiaramente d'opera del colore. Qua parliamo di questo. Comunque quello che volevo dirti è che bizzarramente tutti i problemi degni di questo nome che ho avuto in ambito artistico non provengono da, diciamo forze conservatrici, ma progressiste, bizzarramente. Tutti i problemi che ho avuto arrivano da questa direzione. Hai più problemi con i progressisti, ma perché pensi che quello che fai non dovrebbe essere anche una sensibilizzazione? Ecco, ti faccio la domanda perché te ne ho fatte due insieme ed è sbagliato. Con i tuoi video, tu pensi, tu le hai definiti troll, no? Ma pensi che siano anche utili alla sensibilizzazione su alcune tematiche LGBT, sessuali, hanno uno scopo didattico o sono semplicemente pura provocazione che suscita una reazione nelle persone che sia una reazione di, non so, piacere, oppure di larità, oppure di, non so, tensione? Allora, dipende dal pezzo. I primi si esaurivano o negli aggogliardie o nella provocazione. Dopo no. La scrittura è molto voluta. Penso a un pezzo come Da Grande Sarefrocio che è diventato uno dei pezzi chiamati. Attento a quella parola qua. Attento a quella parola qua su Twitch che è bannabile, però... Non la pronuncio più. Sto attento. Allora, non la pronuncio più. Il titolo è scritta con l'asterisco. Eh, ho visto, visto. No, no, no. Ti stavo solo dicendo che quella parola qui è proprio... è una di quelle da evitare perché sennò, anche se la sentono, è rischio ban. Non so se tu hai... Perfetto. Tu usi Twitch, vero? Mi dicevi. Allora, no. Sono stato ospite in diretta di altri ma non ho un canale Twitch anche se effettivamente ci sto pensando. Ok, ok. Vabbè, ti servirà anche come informazione eventualmente. Perfetto. Vabbè, scusa, continuo. Allora, un pezzo come quello in realtà, no, 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 no. È stato, fra l'altro, anche recepito in maniera forse persino più profonda di quanto non l'avessi scritto. Che per me era un modo anche di ridere di se stessi. Alla fine, la chiave di lettura che do alla fine del brano è ci sono passato. perché altrimenti può sembrare quasi un atto di bullismo nei confronti di un ragazzino che si scopre omosessuale. E quello è un pezzo che veramente ha fatto sentire capite tante persone ma tuttora, tuttora è uscito nel 2015, quindi cinque anni dopo continuo a ricevere messaggi su quello. genitori che mi hanno scritto dicendo grazie, questo pezzo ha aiutato tantissimo mio figlio per proprio questa risata liberatoria. Il tema poi è l'autoaccettazione. Quindi assolutamente in un brano come quello c'è una componente se vogliamo didattica. In altri invece superati i primi appunto di pura gogliardia o provocazione c'è satira di costume, satira della società, quindi non mettere a nudo gli aspetti più grotteschi senza necessariamente, senza ovviamente non dare un'approvazione implicita. Capisco che si va a scardinare un approccio al cantautorato standard che è io credo quello in cui canto quando in realtà si tratta semplicemente di fare ironia. Cioè richiede uno step successivo ossia non sto dicendo questa cosa perché ci credo ma per metterla nudo perché ritengo che sia grottesca. Però è un'operazione che non tutti fanno. Certo, certo. È assolutamente vero. Infatti immagino tu abbia visto il mio post l'altro giorno in cui dicevo che non ha senso politicizzare un genere un genere musicale è un processo molto sbagliato anche perché come dici giustamente tu non è che tutto quello che gli artisti dicono nelle canzoni necessariamente è qualcosa in cui credo può essere può avere anche fini diversi può avere anche obiettivi di vario tipo non per forza appunto sociali didattici quindi lo condivido pieno dimmi no è verissimo è verissimo vabbè in generale sai meglio di me come attualmente si tenda a politicizzare tutto che poi non sono neanche certo che politicizzare sia il verbo più adatto sebbene non mi venga in mente un'alternativa nel senso che in termini di consapevolezza politica chiedersi qual è la conseguenza politica di un'azione secondo me è anche giusto cioè se vogliamo anche buttare un fazzoletto sporco nel cestino piuttosto che per terra è un gesto politico quello che intendo è che e non mi viene un verbo per indicare questa cosa si tende a ricondurre tutto ad un preciso schieramento politico o addirittura partitico è questo partitizzare ed è questo veramente che non ha alcun senso in particolare poi per quanto riguarda la finzione artistica che può essere tutto certo che può avere precisi messaggi politici certo che può avere finalità didattiche esattamente come il gioco ma non ce l'ha per definizione è questo il punto guarda e qui probabilmente poi apro un tema che magari tu stesso volevi affrontare però che è quello ovviamente mi togli dall'imbarazzo che è quello della correttezza politica su cui avrei avrei molto da dire perché lo trovo un tema estremamente complesso su cui non ho assolutamente un'opinione unica è piuttosto sfaccettata se vuoi dopo ne parliamo però adesso ad esempio nel caso di un film una serie televisiva in cui viene mostrato un mondo in cui esistono anche delle minoranze si dirà ah ecco è la dittatura del politicamente corretto quando mostrare un mondo in cui esiste anche la diversità non è una rappresentazione politicamente corretta è una rappresentazione demograficamente corretta socialmente corretta poi libertà artistica per me significa che se un regista vuole fare un'operazione di eugenetica cinematografica mostrandoci un mondo in cui sono tutti bianchi etrosessuali o quel che si vuole deve essere libero di farlo però è appunto una scelta artistica è il concetto di scelta artistica che è il contrario di quello che è stato fatto finora cioè finora è stata spacciata questa forma di selezione innaturale che è mettere solo maschi etrosessuali come la normalità in realtà la normalità dovrebbe essere che ci sono anche rappresentazioni di minoranze di altri orientamenti sessuali transessuali insomma il problema quello che viene portato di solito è la forzatura proprio come dici tu magari l'idea che questa cosa venda di più e che questa cosa attiri più anche interesse da parte del pubblico solo perché c'è quell'elemento non perché quell'elemento è coerente con la narrazione col film col prodotto ma perché è la cosa che poi rende il prodotto interessante e forse questo è l'eccesso come sempre il problema sta nell'eccesso sono d'accordo alcune volte si ha questa netta impressione di trovarsi di fronte ad una scelta di convenienza e lo si capisce nella scrittura alcune volte potrei fare anche degli esempi però non so quanto vogliamo entrare nel dettaglio delle serie tv o dei film comunque cerco di fare un discorso generale capita a volte di vedere un personaggio dove ti rendi conto che questa caratteristica la partenera a una minoranza essere omosessuale non ha una rilevanza nello sviluppo del personaggio è un elemento di colore se tu vai a togliere quell'elemento la storia del personaggio non cambia e in quel caso lì ha un po' il sapore della quota che poi fa del male no però rilevo da artista la rilevo dico ok questa è una quota lo capisco perché non è ben integrata nella scrittura però sì lo rilevo il problema è è l'imposizione allora se posso faccio un discorso un pochino più generale vai vai va bene il tema della correttezza politica è veramente molto difficile da trattare in un nell'attuale livello del dibattito che è generalmente molto basso diviso in fazioni e che discrimina è questo che ho discriminato il pensiero complesso allora facciamo un passo indietro che cos'è questa vituperata correttezza politica si definisce per politicamente corretto tutto ciò linee di pensiero atteggiamenti scelte tutelative rispettose dalla sensibilità delle persone in particolare delle categorie sociali considerate deboli di per sé cosa c'è di sbagliato è anche un proposito nobile e secondo me è effettivamente nobile quello che diventa sbagliato talvolta è la metodologia e l'ambito d'applicazione in politica la forma è anche contenuto quindi chiedo scusa ci sono i gatti che stanno zuffando basta quindi non è sufficiente portare avanti una causa nel modo giusto ho sbagliato non è sufficiente intestarsi insomma un'istanza giusta ma è necessario portarla avanti anche nel modo giusto basta chiedo scusa e questo spesso non succede quindi un'istanza che è corretta ma che pretende di attuarsi attraverso la metodologia della della folla inferocita che parte dal villaggio armata di fiaccole per bruciare la strega viene percepita indovinate un po' come una caccia alle streghe e questo succede spesso ogni volta che magari qualcuno fa un'affermazione che non risulta totalmente allineata con quello che è il livello di sensibilità e consapevolezza che giustamente ci aspettiamo oggi e in questo modo però non si dà neanche il tempo alle persone di crescere mi viene in mente questa pratica adesso molto comune di andare magari a fare necroposting andare a prendere post o dichiarazioni di persone anche di 5 anni fa dove non c'era il livello insomma di consapevolezza su certe tematiche che c'è oggi e lì è veramente facile far apparire una persona come un mostro quando semplicemente all'epoca non c'era questo livello di sensibilità quindi un aspetto è la metodologia l'altro è l'ambito di applicazione ma l'abbiamo già citato ossia un conto ad esempio è il dibattito politico un conto è la comunicazione un conto sono quei contenuti che vengono di fatto imposti come può essere all'interno di un programma ministeriale un programma di studio oppure la pubblicità io non scelgo di vedere la pubblicità in televisione molto diverso è il caso della finzione artistica soprattutto se la fruizione è puramente discrezionale poi io non sono contro il disclaimer devo dire che a volte li trovo l'ennesima concessione ai limiti umani ma va bene se servono per evitare la censura va benissimo il disclaimer fra l'altro da persona che sui suoi prodotti mette una sfilza infinita di disclaimer assicuro che i disclaimer spesso non si mettono per tutelare il consumatore si mettono per tutelarsi dal consumatore comunque va benissimo che si mettono il disclaimer ma nel momento in cui la fruizione è opzionale lì per me la libertà artistica deve essere assoluta e fra l'altro non è una mera posizione ideologica penso che sia proprio sano penso che l'arte la finzione il gioco come è divertente spaventarsi sulle montagne russe o di fronte a un film dell'orrore sia proprio una palestra delle emozioni di componenti anche dell'animo umano che se non sfoghiamo nella finzione dove e quindi qui diventa sbagliato pretendere l'applicazione del politicamente corretto fra l'altro a volte sento lamentare tale applicazione in una formula che per me non è corretta ossia a volte sento parlare di censura quando non è effettivamente censura tipo non lo so il tal network censura questo programma dove stiamo parlando di un distributore privato lui sceglie se distribuirlo o meno perché è una censura è una scelta commerciale poi si potrà discutere dell'opportunità di questa scelta commerciale si potrà parlare di paraculagine però comunque è una scelta censura vuol dire un intervento di un'autorità o di un'istituzione dall'alto quindi parlerei di un censura di un programma se il network che produce quel programma viene inibito da un'autorità se la scelta se la scelta è autonoma siccome non è corretto parlare di censura tuttavia c'è un'altra forma di limitazione che è quella attraverso cui si esprime un certo tipo di correttezza politica che è quella delle pressioni bottom up che è quella del linciaggio di cui parlavo prima è la più interessante oggi è quella più influente vediamo che in tutti i processi interviene sempre la pressione del pubblico quella più recente Johnny Depp che viene tolto dal suo ruolo e Amber Heard che invece viene mantenuta e parte una petizione mediatica per toglierla quindi diciamo che su questo punto di vista io sono molto preoccupato perché credo che sempre di più le aziende saranno in qualche modo soggette alla paura di aizzare un certo gruppo di persone che alla fine determinerà anche quello che queste aziende faranno dunque io credo che questo processo di censura bottom up come lo chiami tu sia un processo che sta aumentando e fra l'altro non è soggetto a nessuna forma di controllo se appunto paradossalmente la censura vera e propria segue dai canali questo è un fenomeno totalmente incontrollabile parte di me che condivide appieno la tua preoccupazione crede che sia comunque un passaggio culturale io anche guardando la storia non vedo momenti in cui l'umanità si è evoluta in maniera lineare si passa purtroppo sempre dall'eccesso un esempio che io faccio sempre perché è proprio un esempio archetipico attraverso cui possiamo analizzare molti aspetti della realtà è la rivoluzione francese quello che secondo il mio personalissimo giudizio è l'evento più importante della storia europea perché è veramente andato a scardinare un paradigma che ha effetti tuttora sulla nostra quotidianità però una volta esaurita questa spinta evoluzionaria sappiamo che c'è stato il periodo del terrore dove letteralmente i rivoluzionari si ghigliottinavano tra di loro alla ricerca di colpevole la ricerca di streghete a bruciare era il periodo del terrore per certi versi secondo me è quello che ora sta succedendo traslato insomma su queste istanze nell'ambito dai media nell'ambito della comunicazione dove certe rivendicazioni sono giustissime è la voce delle vittime che è quello che ha dato vita al movimento miciu quindi si parla di rompere il silenzio di una società che è stata per tantissimi anni eteronormativa maschio centrica e quindi la vittima adesso attraverso i nuovi media ha modo invece di avere una sua voce è che il mio timore è che una volta assaggiato il sangue per una vittima sia difficile dimenticarlo e quindi poi si passi necessariamente dal terrore quindi se mi stai seguendo in questo parallelismo perché non sono seguito non sono certo di averlo espresso bene no stai descrivendo un effetto rimbalzo cioè il fatto che diciamo un'ingiustizia passata stia portando a un cosiddetto effetto rimbalzo cioè le persone che hanno subito quella ingiustizia è come se in qualche modo ottenuta quella carica che prima non avevano finiscano per magari eccedere in alcuni comportamenti no? sostanzialmente credo che sia questo credo che sia questo sì ovviamente anch'io sono preoccupato ma io come dici tu credo che sia un passaggio culturale il punto è che gli effetti rimbalzo se vogliamo chiamarli così hanno bisogno di essere attutiti perché questo rimbalzo non si sa bene fino a dove arriverà e quanto sarà forte sicuramente la discriminazione che hanno subito le donne orientamenti sessuali diversi da quello eterosessuale è stata durissima e quindi io temo che l'effetto rimbalzo sarà durissimo quando dico questa cosa molte persone godono perché dicono ah ecco maschio adesso hai paura che ti venga sottratto il potere in realtà non è tanto per me per me individualmente perché poi l'effetto non sarà tanto individuale sarà più che altro sociale quindi sui grandi numeri e dunque non è tanto un io in quanto maschio ho paura di perdere dei privilegi che è la cosa di cui di solito mi viene più accusato sono più accusato ma è proprio l'idea che oggi non ci si rende conto che per esempio molti maschi eterosessuali hanno dei problemi di cui quando emergono invece di prendersene carico invece di prendersene carico si esulta ti faccio un esempio le ragazze sono più brave a scuola questo è un dato che ormai insomma viene riportato da tanti le ragazze ottengono voti mediamente più alte a scuola e molto spesso questo tipo di notizie questo tipo di risultato che sia vero o false sembra essere vero viene preso come motivo per dire ecco nonostante sono più brave a scuola hanno ancora meno possibilità di ingresso nel mondo del lavoro però io cerco di portare anche l'altro lato della medaglia cioè ok ma se i ragazzi sono più brave a scuola vuol dire che i maschi sono meno bravi e se questa cosa è bella in un'ottica di compensazione rispetto a un danno precedente come ci preoccupiamo cioè ci preoccupiamo del fatto che i maschi rimarranno indietro cioè perché l'obiettivo dovrebbe essere che uomini e donne siano bravi uguali a scuola che ottengano gli stessi risultati non che una delle due categorie uno dei due generi sia migliore quindi cioè quello che ho l'impressione io è che non ci si pone il problema a dire ah però attenzione perché questi ragazzi hanno stanno avendo tutti questi problemi invece quello che vedo è tipo una sorta di di gioia come se fosse tutta una partita a squadra per cui chi prima ha vinto adesso deve perdere perché deve vincere l'altro che è una concezione appunto secondo me legata più che al miglioramento è legata alla vendetta e io penso che molti vogliano la parità e molti vogliano la vendetta che sono due cose diverse poi detto che io posso anche essere comprensivo e posso anche comprendere i motivi per cui uno vuole la vendetta magari ha subito dei torti molto gravi e quindi lo posso capire però non lo posso giustificare non so cosa cosa ne pensi no capisco perfettamente quello che stai dicendo sono temi che mi stanno molto a cuore io mi spendo poco sulla questione insomma parità di genere pur concordando su tutto quello che hai detto la prospettiva mia più interna è quella che concerne l'orientamento sessuale e sì un aspetto su cui insisto tantissimo è che non c'è una lotta tra maggioranza e minoranza non ci deve essere tra uomini e donne tra omosessuali e eterosessuali la lotta è tra inclusività e discriminazione tra parità e supremazia supremazia di qualsiasi genero o categoria ai danni di qualsiasi altre categorie poi sappiamo che storicamente per questioni di forza tendenzialmente sarà la maggioranza a schiacciare la minoranza però di per sé è comunque la dinamica la dinamica che va combattuta e una cosa che mi capita di assistere non di rado è un argomento molto delicato quando si ha a che fare con le minoranze è che noto che talvolta chi come dici tu ha oggettivamente patito la discriminazione tende poi ad interiorizzare la condizione di vittima e ripeto è un argomento molto delicato però la condizione di vittima è incompatibile con la responsabilità letteralmente se sei vittima di qualcosa non è tua responsabilità anzi spesso infatti tu questo lo saprai meglio di me per via dei tuoi studi spesso chi si deve rendere conto di essere stato vittima di qualcosa deve rinunciare al fatto al controllo che no lui non aveva responsabilità in quel momento sono due cose incompatibili appunto non è raro vedere persone che interiorizzano questa condizione e che quindi finiscono paradossalmente poi per rifiutare ogni forma di dialogo che sarebbe atta a scardinare cioè l'obiettivo deve essere liberarsi della condizione di vittima è vero in questo momento lo sono però il fatto è che la vittima e il carnefice non sono delle persone sono dei ruoli tant'è che uno può essere vittima in un contesto e carnefice in un altro la stessa persona anzi credo che spesso questo succeda l'obiettivo è liberarsi al più presto di questo ruolo non affezionarsi che è un ruolo orribile quello della vittima ma ha il vantaggio che non va a bilanciare ovviamente gli effetti negativi dell'assenza di responsabilità se sei una vittima allora sei legittimato a fare e dire tutto perché la lotta che tu stai conducendo è giusta e non è semplice ripeto vedo tante persone che faticano a rinunciare alla condizione di vittima pur essendolo state sì io in un mio video ho parlato di de-responsabilizzazione femminile perché penso che in alcuni casi c'è un clima che porta appunto magari le donne proprio perché sono una minoranza ancora oggi a sentirsi in qualche modo de-responsabilizzate rispetto a certe dinamiche per esempio quando viene tirato fuori il concetto di patriarcato molto spesso oggi il concetto di patriarcato viene tirato fuori per giustificare qualunque tipo di disuguaglianza sociale quando in realtà il patriarcato o comunque il retaggio patriarcale è un qualcosa che determina alcune dinamiche ma non sicuramente la totalità delle dinamiche dell'essere umano e a volte ho la sensazione appunto che è proprio perché il patriarcato viene attribuito al maschio qualunque cosa succeda in questa società è colpa del patriarcato e qualunque cosa essendo colpa del patriarcato è automaticamente colpa del maschio togliendo anche la responsabilità individuale e questa è la cosa che mi preoccupa di più c'è in questo modo viene spesso annullata anche la responsabilità degli atti individuali per cui una persona che commette qualcosa di un errore diciamo una ragazza che a volte magari discrimina capiterà sicuramente viene in qualche modo giustificata a se stesse dalla società dal fatto che è in una condizione magari di obbligata a prendere delle scelte magari non sulla discriminazione parliamo magari di scelte ecco ti faccio un esempio le ragazze oggi su Instagram tendono a sessualizzarsi molto e questa cosa viene attribuita spesso al fatto che viviamo in una cultura maschilista che porta la ragazza a usare il proprio corpo come veicolo di innalzamento del proprio status sociale però questa cosa è vera fino a un certo punto ma non si può negare il fatto che quella ragazza ha desiderio di sessualizzarsi quindi dove inizia il fatto che ci sia un sistema maschilista che la porta la induce quel comportamento e dove inizia invece la responsabilità individuale perché non ci può essere una società in cui una categoria per quanto vittima per quanto minoranza sia privata della responsabilità delle proprie azioni perché sennò è una società molto pericolosa a mio modo di vedere capisco perfettamente quello che stai dicendo si assiste spesso ad un doppio standard e per certi versi anche ragione di esistere ti faccio un esempio sempre riconducendo all'ambito artistico spesso buffo notare come una stessa esternazione si possa configurare come satira o come bullismo in base alla posizione di potere pensiamo alla ricorderemo insomma il ricorderete il la polemica a seguito di quel servizio di striscia la notizia sulla botteri la giornalista sul fatto che facesse dei servizi spettinate dove si è parlato di sessismo di body shaming e via dicendo c'è stato un sostegno enorme al punto che anche gli autori Michelunzi che si sono scusati per quel servizio e capisco perfettamente le questioni che sono state sollevate perché comunque è sbagliato criticare una persona per l'aspetto fisico pensiamo però a Trump quanto è stato ridicolizzato per i suoi orribili capelli per la sua orribile faccia arancione perché quello non è un problema perché lui è in una posizione di potere probabilmente è la persona più potente del mondo quindi perché in un caso deridere per l'aspetto fisico va bene nell'altro no perché questo doppio standard per la posizione di potere solo che nell'esempio che ti ho fatto è oggettivo dalla parte hai una giornalista italiana dall'altro il presidente degli Stati Uniti c'è un oggettivo di slivello di potere quindi il doppio standard può essere giustificato in alcuni casi però è molto opinabile entriamo nel caso appunto del rapporto uomo-donna dove per certe persone il rapporto di potere esiste ed è totalmente sbilanciato ed essendo sbilanciato il doppio standard è legittimato quindi ciò che in un caso si configura come bullismo e quindi la stampa deve stare attentissima nel dare notizie concernenti magari episodi di violenza che riguardano le donne questa premura non serve nel caso degli uomini anzi si può anche ridere si può anche buttarla insomma in cacciara cioè una donna che picchia un uomo fa ridere cioè culturalmente perché diventa satire non diventa violenza perché c'è una posizione di potere e che strada di capire se ci sia veramente questa posizione di potere tu hai citato il ah perdona mi stavi dicendo qualcosa no no sono d'accordissimo infatti io a volte critico perché ogni post c'è sempre qualcuno che dice ma se fosse successo il contrario e io in un post dissi beh non vale sempre questo gioco se fosse successo il contrario a volte però sì nel senso che a volte io lo trovo anche un gioco che identifica un doppio standard magari sensato a volte secondo me è semplicemente un doppio standard dettato dalla cultura il contesto culturale comunque determina diversi standard per esempio c'è stata la famosa battuta di Balotelli al grande fratello VIP e poi la battuta X-Factor fatta da una una comica una sì una presentatrice molto simile dal punto di vista sessuale però culturalmente quella battuta sessuale fatta da una donna verso un uomo e da un uomo verso un adulto una donna aveva un peso diverso e questo non si può negarlo nel senso che comunque tutto va contestualizzato e quindi il contesto lo determina anche la cultura quello che voglio dire però è che a volte in effetti proprio per quello che dicevi tu dove il contesto di potere non è chiaro o comunque anche qualora ci fosse una dinamica di potere secondo me ciò non può comunque portare ad un annullamento della responsabilità personale perché altrimenti rischiamo comunque no? perché se annulliamo la responsabilità personale e facciamo sentire la vittima comunque in quanto minoranza sempre lecitata a qualunque atto a quel punto quella persona rischia anche per sé perché magari commette degli atti a cui non attribuisce un valore e poi questi atti la portano magari in galera quindi è importante anche per le vittime e anche per le minoranze essere consapevoli che qualunque cosa non può essere giustificata sono d'accordo ripeto è una prova molto difficile quella che devono affrontare le minoranze perché oltre a venire gravate magari da un rapporto di potere sbilanciato devono essere però tenute agli stessi standard comportamentali e purtroppo sì mi rendo conto che non è giusto ma non è giusto il mondo del resto è così però che si portano avanti poi le istanze è così che si che si integra un cambiamento è una cosa che predico molto riguardo alla società patriarcale mi fa piacere che utilizzi questo termine perché sai che molti uomini appena sentono questo termine iniziano a ridere o pensano che sia hai fatto anche un video è stato un video che mi hanno visto nel mio canale perché io quando parlo di alcune cose sembra che l'attenzione scemi proprio però sì io lo nel senso non lo nego ovviamente è una cosa secondo me da negazionisti negare il patriarcato però è una mia una mia visione di cui sono convinto ti dico qual è la mia visione a riguardo io sono convintissimo dell'esistenza di questo patriarcato ma in due ma veramente due minuti possiamo andare a analizzare delle caratteristiche che ancora sopravvivono ritengo che questa cultura abbia pesantemente schiacciato le donne creando sia un pavimento appiccicoso che un soffitto di cristallo sul pavimento appiccicoso se vuoi dopo ne parliamo mi spiace anche in questo momento non c'è una donna però insomma posso darti la mia prospettiva su alcuni argomenti detto questo la visione corretta secondo me del patriarcato non è quella che necessariamente privilegia l'uomo ma quella che stabilisce in maniera univoca cosa deve essere un uomo e cosa debba essere una donna a discapito della realizzazione dell'ambizione dell'individuo la società patriarcale stabilisce che le azioni delle donne non hanno valore non hanno valore inutile che si impegnino loro devono essere belle devono fare figli ovviamente torniamo agli anni 50 però è proprio questa sì diciamo che oggi si parla di retaggio nel senso di una continua influenza rispetto a un patriarcato molto più più importante del passato esattamente per contro però come le azioni delle donne non hanno valore la vita degli uomini non ha valore a meno che se lo diano attraverso le azioni anche questo è un forte retaggio patriarcale capisci quello che intendo dire sì ma appunto quello che spesso io voglio sottolineare è che quello che di solito viene attribuito come un privilegio maschile in realtà poi il maschio lo converte in alcuni casi in un privilegio diciamo assolutamente sì in altri casi in un'autodistruzione perché è evidente che molti maschi questo loro ruolo di igiena che gli viene dato dalla società e quindi da uomini e donne perché non possiamo negare che la cultura viene portata avanti da uomini e donne questo apparente ruolo di igiena che dovrebbe essere appunto un privilegio per alcune cose per altre porta l'uomo ad autodistruggersi a farsi più del male a maggiori atti di autolesionismo a maggior isolamento sociale a maggiore incapacità di creare rapporti magari anche per esempio anche il lavoro può avere i lati negativi ovviamente è uno dei settori in cui le donne sono più penalizzate però pensiamo per esempio al fenomeno del super lavoro alle persone che arrivano a morire per il lavoro arrivano a essere dipendenti dal lavoro cioè quello che voglio dire è che a volte si perde un po' quelli che sono i lati negativi della medaglia rispetto al ruolo di genere maschile cioè tutto quello che poi è tossico anche per l'uomo e per questo io sono un po' restio a usare l'espressione privilegiato ma perché non perché non riconosca che l'uomo non venga discriminato in quanto uomo in molti settori ma perché quel prezzo viene pagato a volte con autodistruzione con autodistruzione di annientamento dell'uomo in quanto essere umano in quanto anche umano agli occhi della società tu hai parlato di quello che di solito viene definito un gap di empatia no? sull'uomo il fatto che un uomo magari subisca alcune cose si prova meno empatia e questo contribuisce a volte anche a una rete sociale più debole quindi insomma senza voler far ragare a chi ha più problemi io non mi voglio spingere lì però ogni tanto dico cazzo però questa cosa che l'uomo ha non è solo positiva perché se me la vuoi spacciare solo come positiva io penso che sia una visione abbastanza reduttiva sono d'accordo penso che comunque la mia opinione personale è che sui due piatti da bilancia comunque effettivamente i vantaggi nell'essere uomo superino gli svantaggi però non sono assolutamente solo vantaggi come dici tu c'è un c'è un prezzo enorme infatti quando si parla di mascolinità tossica si intende proprio quelle manifestazioni del patriarcato che vanno proprio a erodere la qualità di vita del maschio tra l'altro guarda ti posso fare questo discorso un discorso anche molto delicato ma so che tu non hai paura di questi discorsi ormai allora l'ho citata prima io sono presidente di questa associazione che è il MENSA poi volevo chiedere ah va bene allora però guarda te ne parlo in relazione ad uno degli argomenti più delicati faccio una brevissima una brevissima introduzione allora il MENSA è un'associazione internazionale senza scopo di lucro fondata ad Oxford negli anni 40 in Italia nell'83 di cui possono essere soci coloro che superano un test di intelligenza logico spaziale ossia un test del cui in particolare si va a misurare una specifica manifestazione del cui gli obiettivi statutari del MENSA sono quelli di creare una comunità mettere in contatto persone con questa caratteristica chi è a causa di questa caratteristica magari possono sperimentare anche una forma di marginazione di solitudine nella loro vita quello di incentivare lo studio sulla natura dell'intelligenza to cure quindi si sovvenziona con le quote dei soci progetti di ricerca e stimolare il dibattito spronare a utilizzarla questa intelligenza un proposito ovviamente che ogni associazione e ogni direttivo interpreta a suo modo ma poi con progetti di divulgazione con conferenze sul territorio contenuti mediatici questa è l'idea insomma dell'associazione è un'associazione che a livello internazionale ha un problema sensibile di disparità di genere abbastanza importante siamo molti più uomini che donne attenzione dato importantissimo il numero di donne che passano il test è molto vicino al numero di donne che lo tentano vuol dire che le donne non sono interessate attualmente abbiamo anche partecipato ad uno studio della Bicocca di Milano sulla correlazione tra quoziente intellettivo e quoziente emotivo tra l'altro dopo se la cosa ti può interessare aprirei una piccola parentesi sull'intelligenza e sul quoziente intellettivo perché penso possa essere interessante comunque e il professor Matta che tenne poi una conferenza sullo studio fatto di fatto ci disse che alla luce degli studi fatti sembra emergere il fatto che a livello statistico ci sia una leggera predisposizione negli uomini nel cui e nelle donne nel cui quindi che sia più facile tra gli uomini trovare casi di plus dotazione cognitiva mentre le donne abbiano mediamente un'intelligenza emotiva che in due parole è vabbè sono robe di nuovo che tu sei meglio di me però a beneficio di chi segue consapevolezza delle proprie emozioni comprensione delle emozioni altrui utilizzo funzionale delle emozioni ok questo diciamo è il dato freddo però bisogna chiederci perché ora stresso il concetto di statistico vuol dire che stiamo parlando di generalizzazione che in qualsiasi momento mi puoi trovare un uomo con estremamente empatico con un'enorme consapevolezza emotiva così come ci sono delle donne assolutamente geniali anche sul fronte del cui però la statistica sembra dire questo il fatto è che noi non sappiamo quanto l'educazione incida per capirlo dovremmo avere a disposizione un altro dato ossia dovremmo sapere quanti padri si siedono con i loro figli adolescenti preadolescenti e dicono adesso parliamo dei nostri sentimenti quante madri prendono le bambine e fanno far loro esercizi di logica cosa vuole lo stereotipo patriarcale l'uomo stronzo che tanto non devi neanche riservargli l'emotività perché non ci arriva non sente l'uomo proprio non ha emozioni non rispetta le tue perché è un analfabeta emotivo ma non ne ha è un coglione l'uomo è stronzo e la donna è un'occa sì ok è figa ma fa quel che fa cioè arriva poi dove arriva questo è lo stereotipo proprio più becero che noi sappiamo osservando la realtà che non è vero tuttavia con un certo tipo d'educazione lo si può far diventare vero ho incontrato in vita mia uomini stronzi proprio analfabeti emotive e donne che non avevano chiaramente allenato quel loro segmento dell'intelligenza queste per me sono tutte manifestazioni di questo retaggio patriarcale che come vediamo però anche in questo caso colpisce negativamente da entrambe le parti sono d'accordissimo sono d'accordo su questo io guarda poi da psicologo sociale io sono molto attento a quelle che sono le influenze dell'educazione della società sull'individuo quindi io lo dicevo anche per esempio relativamente al discorso donne nel mondo della scienza il fatto che comunque sembra che in alcuni paesi per esempio i paesi nordici nonostante ci sia un maggiore livello di parità ci siano meno donne che si iscrivono ai corsi di laurea STEM cioè pare che più aumenta la parità più le donne scelgano meno i corsi di laurea scientifici però questa cosa che viene definita paradosso nordico secondo me è falsa nel senso che probabilmente la parità di quei paesi non è una parità educativa ma è una parità a volte raggiunta come spesso oggi capita in modo non dico sbagliato ma comunque non funzionale a una vera parità di genere cioè mettendo delle toppe come facciamo oggi noi a raggiungere la parità cerchiamo di mettere delle toppe in modo di equilibrare i numeri ma quell'equilibrio dei numeri è un equilibrio artificiale perché non è basato su una reale educazione paritaria ma è basato su degli interventi postumi rispetto all'educazione quindi quando già i bambini hanno ricevuto un certo tipo di educazione di genere e dunque io credo che più o meno in tutto il mondo stiamo comunque molto indietro rispetto a quella che è il vero strumento di annullamento della disparità ovvero far sì che i genitori non crescano bambini e bambine in modo diverso ma che il sesso intervenga solo nel momento in cui questo diventa un fattore di tipo sessuale cioè quando effettivamente il sesso è un fattore nella vita perché prima per esempio della pubertà il sesso cosa cambia in un individuo uomini e donne bambine e bambina hanno lo stesso anche livello di massa muscolare fino ad una certa età perché il testosterone non è ancora impennato quindi sono praticamente identici e dunque tutto quello che viene fatto per esempio prima di questo momento a livello di disparità di genere è tutto forzato è tutto culturale perché non c'è nessuna reale differenza nei due core a meno che appunto queste sono ancora ricerche in corso esista effettivamente un cervello femminile e un cervello maschile ma questa cosa dagli studi sembra tutto sommato non essere così rilevante quanto invece lo è l'educazione quindi il mio discorso è qualora esistessero differenze genetiche è possibile non lo possiamo sapere in questo periodo perché c'è troppa tensione quindi nessuno lo potrebbe dire neanche se lo scoprisse perché perché non sarebbe nessun nessun ricercatore lo potrebbe dire se ci fossero delle differenze oggettive ma anche qualora ci fossero secondo me sarebbero comunque secondarie rispetto alle immense differenze legate alle aspettative di genere che sono veramente gigantesche e quindi da questo punto di vista sì sono perfettamente d'accordo con te credo che modificando molto l'educazione di genere non dico che la società di uomini e donne diventeranno identici perché forse questo è anche un obiettivo sbagliato forse non è proprio forse la cosa a cui ispirare però sicuramente si appienerebbero molte differenze quindi anche molte differenze e aspettative e negative sui maschi e perché ci metto dentro anche questo io purtroppo non posso fare meno di vedere io mi occupo anche di un fenomeno che è quello degli kikomori che riguarda isolati sociali cioè ragazzi giovani che si isolano e purtroppo anche quel fenomeno riguarda per il 70-80% maschi questo dato a me comunque colpisce ed è uno dei dati che mi ha portato a scavare sulle differenze di genere perché mi sono chiesto ma com'è possibile che così tanti maschi decidano di isolarsi in rapporto alle femmine e quindi mi sono mi sono posto questa domanda e ho cercato di capire effettivamente quali fossero i lati negativi del ruolo di genere maschile e mi sono accorto che molto spesso questi vengono sottovalutati chiarissimo chiarissimo la differenza nell'educazione veramente la si tocca in mano con mano costantemente cioè dal dire al bambino che piange non piangere e all'accudire subito la bambina che piange lì comunque stai dando un messaggio che i bisogni e i motivi della bambina devono essere sempre accuditi da tutti quello dell'uomo non ha importanza sono due estremi in realtà dove anche la bambina dovrebbe trovare a volte la forza di bastarsi da sola e invece anche l'uomo è legittimato a chiedere aiuto questo è un esempio veramente al limite del becero però ci siamo capiti no no sono d'accordo su questo in termini di differenze di genere e poi hai citato questi interventi posticci insomma queste toppe che le hai chiamato tu chi è a favore di questo tipo di interventi sostiene e io non mi santo di smentirlo perché non lo so potrebbe avere ragione che è vero è vero questa è una parità posticcia ma se noi artificiosamente creiamo un mondo in cui esiste la parità le nuove generazioni cresceranno guardando alla parità io non sono contro non sono contro per esempio io sono anche tra i parole quaterosa che è una cosa che molti anche tra le donne non vogliono io invece sono sono pro perché penso che comunque ci sta anche a livello di rappresentanza scusa volevo solo specificare che non sono contro agli interventi postumi però credo che siano una falsa parità perché poi la vera parità non è quella capisci quello che intendo ti lascio continuare scusami no no chiarissimo 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 in termini di differenze di genere io ovviamente non sono un ricercatore sono un artista mi posso esclusivamente basare sull'esperienza ad esempio concernente la mia associazione gli ambiti in cui mi muovo che sono legati appunto alla post-dotazione e anche alla neurodiversità questi ad esempio sono elementi che ricorrono statisticamente più nei maschi che nelle femmine ai miei occhi ignoranti la prostatazione e il disturbo mi appare sempre più evidente nell'uomo che nella donna dove ho bisogno di conoscerla di più la quale mi appare sempre mediamente più bilanciata ecco è questo il termine che utilizzerei questioni come ad esempio i DSA Turet autismo sono un pochino più ricorrenti negli uomini se ci mettiamo anche appunto un tipo di educazione che non porta il maschio a legittimare i suoi bisogni emotivi non mi stupisce che poi ci siano molti casi insomma di isolamento comunque vabbè esatto questo è punto chiave la difficoltà del maschio di esternare le emozioni lo porta spesso a non chiedere aiuto pensa che per esempio le persone che vanno in terapia psicologica sono quasi tutte donne i maschi molto spesso chiedono aiuto psicologico questo è un altro dato che ti fa pensare come il maschio supprima cioè infatti il maschio chiede spesso esplodere esplodere attraverso anche per esempio l'autolesionismo eccetera eccetera però ecco volevo chiederti visto che appunto siamo già una cinquantina di minuti di chiacchierata non voglio toglierti troppo tempo prima hai detto che hai avuto più problemi con i progressisti cosa intendevi che sono curioso io sono molto spesso critico per una fascia che si definisce progressista ma secondo me diciamo è molto poco progressista dal punto di vista pratico quindi non so se stiamo parlando della stessa cosa magari no allora chiaramente quella diciamo se dobbiamo dividere in fazioni è la fazione con cui mi identifico io praticamente tutte le mie idee possono essere descritte come progressiste posso concordare con i conservatori nell'appurare è che magari avendo scardinato certi modelli che erano opprimenti attualmente ora magari ci troviamo in un momento di vuoto senza riferimenti anche su quello che magari anche proprio concerne la vita affettiva la vita relazionale quindi posso riconoscere che magari nel buttare via l'acqua sporca si sia buttato via anche il bambino ma penso che sia proprio identico poi è un più importante cambiamento culturale sono operazioni di respiro generazionale detto questo bizzarramente sì ma è una questione di malapplicata correttezza politica mi riferisco alle interrogazioni parlamentari sui miei giochi a proteste affinché io non cantassi in un determinato contesto io credo che no non è vero non lo credo ti dico cosa avevo nella testa stavo dicendo credo che tutte queste persone fossero in buona fede no non tutte mi vengono in mente certe figure politiche dove quelle erano esclusivamente una strumentalizzazione che sembrava un obiettivo semplice quindi ah ok è stato fatto un gioco con questi temi assolutamente offensivi questo è un gol a porta vuota poi in realtà non si rivela un gol a porta vuota perché non ci sono i presupposti legali per non tentare un'azione e fra l'altro noto che per via di un certo pregiudizio che vuole i contenuti umoristici come più bassi non è raro che qualcuno che non mi conosce nel momento in cui si approccia a me magari per un confronto parte dal presupposto che io sia stupido questa è una cosa che mi capita abbastanza frequentemente e di solito l'altra persona poi ha la peggio in questo senso soprattutto partendo partendo in preparata e quindi sì di fatto sì persone che condividono esattamente le mie stesse idee ma che non condividono la metodologia quindi per loro il linguaggio anche in ambito artistico non è ammesso ci sono delle parole che non importa non importa quanti disclaimer metti non importa che pubblico ti rivolgi non importa se il contenuto è la cui fruizione è discrezionale non si può proprio non puoi dirle se lo dici sei un mostro io ho proprio delle persone che mi considerano satana e queste persone sono persone sostanzialmente progressiste che portano avanti l'importanza della rappresentazione delle minoranze il femminismo ecco l'hai citato sai se non ti faccio una domanda sul femminismo qua mi linceno perché non so se sai io spesso attacco quello che definisco femminismo tossico femminismo estremista ecco io a volte passo anch'io per satana per il misandrico per il misogino il maschista sì misandrico ho sbagliato ma io quello che voglio dire spesso quando critico il femminismo estremista è proprio che secondo me quello non è progresso quello io anzi fatico a definirlo progressismo proprio perché mi sembra che si vada a ledere anche alcuni sì ok perseguire un fine che è giusto e nobile che è quello della parità infatti quando mi dicono beh ma femminismo è parità io dico ok sono d'accordo però qual è il mezzo che tu vuoi utilizzare per raggiungere quella parità è questa la cosa che conta perché il fine siamo d'accordo credo che ormai sia condiviso dalla maggior parte ma il problema è il mezzo è il metodo quindi io molto spesso critico quello che è un metodo di alcuni movimenti femministi non tutti ovviamente perché poi c'è il femminismo moderato c'è il femminismo estremista ecco quindi critico il metodo non critico il fine il fine lo capisco è nobile però se per raggiungere quel fine tu sei disposto a qualunque cosa allora lì ho dei problemi ecco da questo punto di vista tu cosa ne pensi? è il discorso che facevo un po' all'inizio che non basta portare avanti una causa giusta bisogna farlo anche nel modo giusto e sono sostanzialmente d'accordo io sostengo fortemente il femminismo vabbè naturalmente non si discute neanche l'importanza storica che ha avuto per arrivare a una parità legale come quella che c'è ora di fronte alla legge continuo a credere nell'importanza di un femminismo che è incentrato sulla narrazione del mondo femminile femministe che amano la figura della donna e che vogliono raccontarla in tutti gli ambiti in cui si muovono vogliono sentire storie di donne ritengono che la voce che la prospettiva femminile meriti sempre di essere inclusa io non posso che sostenerlo quello è un femminismo che lotta per tutte le implicazioni negative di quelli che sono i retaggi del patriarcato quindi generalmente sul concetto io sono io sono favorevole però ravviso tutte quelle derive sostanzialmente che denunci tu io la situazione in cui le ho toccate più da vicino è stato con Arci Lesbica conosci un pochino conosci un po' delle problemiche io quando mi riferisco al femminismo radicale non mi riferisco per esempio alle TERF che sono di solito quelle di Arci Lesbica alle cosiddette femministe antitransessualità adesso non so esattamente cosa significhi comunque trans exclusive feminist esatto grazie non mi ricordavo io mi riferisco anche alle cosiddette femministe intersezionali ma che hanno una visione a mio modo di vedere come dicevi tu unilaterale non come dicevi tu come dicevo io scusa unilaterale nel senso che a volte appunto nel loro obiettivo che io concordo nel senso che penso che sia oggettivamente giusto oggettivamente voglio dire sicuramente è una cosa che rispecchia la mia morale ma credo che sia fatto in modo a mio modo di vedere sbagliato e spesso sessista nei confronti degli uomini io ravviso spesso in alcuni movimenti femministi proprio un odio non per forza un odio ma a volte quantomeno una retorica che va a screditare un intero genere che ripeto capisco posso comprendere ma non posso giustificare che sono due cose diverse cioè il fatto che io comprendo perché c'è un odio non posso però dire che quell'odio ritengo sia giusto quindi alla fine io cerco quello che faccio io sul web ultimamente è cercare di dire ok ma secondo me quasi state esagerando che so che è un ruolo anche un po' infame perché sembra sempre che io voglia andare contro quelli che sono i loro obiettivi cosa che in realtà non è vero però diciamo che penso che sia giusto farlo perché proprio per evitare quell'effetto rimbalzo credo che ci sia bisogno di qualcuno che magari dica aspetta forse qua nonostante tu abbia ragione stai forse usando il metodo sbagliato quindi io faccio sostanzialmente questo e tu stavi citando giustamente quello che anche il femminismo che io reputo estremo critica molto c'è tutto il cosiddetto femminismo radicale le TERF però quello secondo me è molto poco d'impatto sulla società c'è qualcosa già molto minoritario che credo ha pochissima influenza sociale e che anche a livello legislativo a livello politico non avrà molto peso invece quello che critico io è qualcosa che secondo me nei prossimi anni avrà molto peso anche politico e quindi io ho un po' paura e poi ti farò anche qualche domanda politica perché molti mi chiedono la tua opinione sulla legge ZAN che io tra l'altro ho già letto su cui sono d'accordo anche se ho un po' paura dell'applicazione in questo clima però ecco non parlo giusto per chiarire del femminismo inteso come radicale anche all'interno del femminismo stesso io parlo proprio di un femminismo radicale all'interno di quello che viene considerato il femminismo buono chiara ti sei scelto veramente un percorso assolutamente ingrato per quanto tu abbia tutta la mia stima perché veramente è mal 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 si concilia con la visione bidimensionale che è quella populista sostanzialmente che è quella più diffusa sia a destra che a sinistra ne parlavi anche tu l'altro giorno il populismo di sinistra è più sofisticato perché ritengo che il populismo di destra generalmente si rivolga a persone con meno strumenti culturali quindi è più basico ma esiste anche un populismo di sinistra a me generalmente non piace fare nomi perché le lotte si fanno alle idee non alle persone però non voglio neanche lui dare le domande adesso non mi chiedesse fammi un esempio te lo faccio detto questo il populista di sinistra è quello che ti spiega che il mondo è diviso in due buoni e cattivi ogni giorno ti riporta un conservatore corrotto ti riporta un maschio bianco eterosessuale che ha fatto qualcosa di orribile e contemporaneamente ti porta la storia di una donna di un omosessuale di un immigrato che ha compiuto un gesto eroico ogni giorno ti porta queste due cose per confermarti che da una parte ci sono i buoni dall'altra ci sono i cattivi e divisi in fasce demografiche fra l'altro questo è comunque populismo comunque in questa visione totalmente bidimensionale in cui se non vuoi il fascismo allora vuoi il comunismo in cui se ritieni che la scuola debba essere laica e non ci vadano i crocifissi allora vuoi un governo islamico cioè si passa unicamente per questi due eccessi un approccio come il tuo veramente male si conciglia e ritengo che sia il futuro però e passerà attraverso un lavoro di educazione di consapevolezza che secondo me dovrà a sua volta passare dalle scuole tu prima hai fatto una distinzione che io faccio spesso che è difficilissima da fare ora tu distingui tra motivazioni giustificazioni la motivazione ti spie ti dice perché uno ha fatto una cosa una giustificazione rende una cosa che fosse giusta o sbagliata giusta sono due cose diverse tu puoi dirlo anche di fronte magari a un reato orribile ti dice ok lui ha commesso questo reato per questo motivo ah non puoi dirlo lo stai giustificando no non è giusto quello che ha fatto lui aveva il suo motivo esistono anche i motivi sbagliati ma esistono i motivi ecco questa differenza tra motivazione e giustificazione spesso non si può fare è proprio un discorso che non puoi fare se stai negando le giustificazioni allora stai negando anche le motivazioni se stai motivando allora stai anche giustificando quindi capisco capisco sei stato sei stato chiaro beh guarda io penso che questo tema appunto sia immenso però non voglio neanche monopolizzare la conversazione su un tema appunto che mi sta molto qua intanto voglio non ignorare la chat perché ci stanno seguendo 430 persone quindi penso che sia giusto anche dare un po' di spazio a chi ci sta ascoltando ecco vabbè ti faccio la domanda sulla legge ZAN io dico che parlo anche perché questa non vuole essere un'intervista ma vuole essere una chiacchierata quindi non è che parlo per togliere tempo all'ospite ma voglio spiegare anche visto che ci stiamo conoscendo no perché in chat mi dicono fallo parlare io sto conoscendo Immanuel Casto in questo momento ci stiamo un po' confrontando anche perché ci piace immagino capire un po' uno dell'altro cosa ne pensiamo quindi voglio anche spiegarmi il mio punto di vista no io sulla legge ZAN appunto ho detto che sono fondamentalmente d'accordo con il principio anche perché l'integrazione di una legge che già esisteva esatto c'era sull'etnia adesso c'è anche sulla discriminazione in base al genere l'orientamento quindi sono perfettamente d'accordo ho un po' paura effettivamente ma questa è una cosa postuma che non toglie la bontà della legge sul fatto che in un clima di questo tipo possa ricevere abusi ma detto questo io come ho scritto in un posto non è che sto manipolando la mia opinione per diciamo non farmi giudicare ma credo che sia fondamentalmente giusto e quindi se una cosa è giusta bisogna eventualmente criticarla nell'applicazione ma non è che se le applicazioni possono essere negative allora io non faccio una cosa che è fondamentalmente giusta quindi diciamo che io la vedo così non so tu se hai opinioni diverse ti dico tutto adesso ti dico la mia prospettura partendo dalla fine no Chiara tu stai dicendo di non cadere nella fallaccia logica della slippery slope se succediamo se facciamo questa cosa allora succederà questo quella è una possibile applicazione ma ovviamente cioè la giustizia è l'ideale e quella è perfetta la legge è uno strumento quindi è perfettibile è in mano all'uomo dipende poi quello che ne fa qualsiasi legge può essere utilizzata a scopo persecutorio lo sappiamo benissimo quindi il fatto che sussisa questa possibilità merita di essere rilevato inserito nel dibattito attenzione però siccome non è una motivazione valida ora ti dico effettivamente che cosa ne penso partendo dal mio giudizio è favorevole pur riconoscendo la legittimità di alcune obiezioni alcune le trovo intellettualmente rispettabili ma non condivido altre le condivido proprio allora ricordiamo che non si tratta di un disegno di legge che vuole introdurre una legge che non esiste quindi questo è un concetto importantissimo ciò che è consentito ora continuerà a essere consentito verrà punito ciò che è già punito si tratta di un aggravante come l'aggravante per futili motivi semplicemente quindi ciò che ora viene già punito verrà punito con appunto un aggravante questa proposta di legge si ripropone di estendere la legge reale Mancino in vigore da 30 anni che punisce con l'aggravante del reato d'odio reati quali la discriminazione la violenza reato d'odio nei confronti di caratteristiche fondanti delle identità inalienabili dell'individuo quali nazionalità etnia e credo religioso c'è anche un dibattito sul fatto che la religione o meno sia una caratteristica immutabile dell'individuo piccolo inciso secondo me sì perché è un heritage culturale così potente che è quasi paragonabile alla nazionalità è vero che uno può cambiare ma insomma secondo me è legittimo quindi questa proposta di legge semplicemente si ripropone di estendere una tutela che già esiste da 30 anni e che in 30 anni non è mai stata utilizzata in maniera distorta neanche una volta questa è una domanda che ho fatto a Zan non una persona a caso di estenderlo anche ad altre caratteristiche quali il genere l'orientamento sessuale l'identità di genere e l'abilità se vogliamo va anche a limitare un doppio standard e trovo piuttosto ipocrita da parte di una frangia di estremisti cattolici ma neanche troppo estremisti il paventare scenari distopici liberticidi in cui verrà tolta la libertà di parola quando questa legge esiste da 30 anni e tutela le discriminazioni in base al credo religioso stanno dicendo se questa stessa tutela di cui noi beneficiamo da 30 anni viene estesa anche altre caratteristiche sarà l'apocalisse ma non l'ho mai stato qui devo fare un esempio preciso per capire di cosa stiamo parlando quante volte al giorno noi sentiamo dire che la chiesa è il male che chi crede è un ritardato che i preti sono pedofili quante volte lo sentiamo dire questo trigga la legge Zan no per quanto offensive queste sono opinioni sono opinioni sono lesive possono essere quel che vuoi possono magari in alcuni casi costituire diffarmazione se legate al singolo ma sono opinioni la legge Zan scusate la legge reale Mancino no quindi è la stessa cosa se uno vuole dire che un omosessuale è un pervertito malato potrà continuare a dirlo è una sua opinione ora quali sono le obiezioni di cui riconosco la legittimità una proprio fondante ossia che si possa ritenere l'odio un concetto troppo evanescente sul quale legiferare infatti io rispetto intellettualmente solo chi è contrario a questa legge e contestualmente mi dice io abolirei però anche la legge reale Mancino se mi dici così però gli rendo atto del fatto che abolire una legge è molto difficile quindi diventa legittimo che lui dica io l'abolirei non potendo abolirla quantomeno che non venga ulteriormente estesa non sono d'accordo ma la ritengo una posizione intellettualmente difendibile oppure chi dice ritengo che questa sia una limitazione sulla libertà di espressione ma certo che lo è non è un'interpretazione va a limitare parzialmente la libertà di espressione ma attenzione ora mi sembra che sia diffusa l'idea che nella nostra società non esistono limiti alla libertà personale ma questo dal fatto sociale in poi la nostra società è fondata esatto ma se no non esisterebbero le carceri tutto quello che va a ledere la libertà degli altri è qualcosa che può essere impedito questo è quello che ti dissi anche nel mio post quindi non è che tutto deve essere libertà perché se no siamo all'anarchia deve essere impedito ciò che limita la possibilità degli altri di avere la propria libertà cioè la mia libertà non può essere superiore alla tua questo è il principio credo di base assolutamente assolutamente e però ripeto intellettualmente se uno mi dice per me la libertà di espressione deve essere assoluta io non sono d'accordo e notare che allora andrebbe anche abolito il reato di diffamazione perché stai provendo a una persona di esprimersi se tu ritieni che si debba poter dire qualsiasi cosa non sono d'accordo ma è una posizione ideologica se me la porti avanti con coerenza dicendo che proprio vanno abolite tutte quelle leggi che vanno a limitare la libertà di espressione allora va bene è legittimo che tu sia contro questa proposta di legge una obiezione invece che posso ritenere ragionevole è quella ok se stiamo allora estendendo ad altre caratteristiche fondanti dell'identità dell'individuo perché stiamo facendo una lista che dobbiamo continuare ad aggiornare non possiamo parlare di odio nei confronti di caratteristiche fondanti dell'individuo tra cui per dire c'è l'età ad esempio e ci sono anche altre caratteristiche a questo punto si poteva fare una cosa un pelo più pulita però è voluta nel mentre e la politica io vi chiedo scusa per i gatti e la politica sappiamo che è il reame del bene possibile ossia il mondo del compromesso di fronte a questa proposta di legge mi devo chiedere non mi devo chiedere è perfetta perché non ne usciamo non mi devo chiedere è possibile che un giorno venga usata male perché non ne usciamo mi devo chiedere secondo me questa legge renderà il nostro pezzo di mondo migliore o peggiore secondo me lo renderà migliore da qui il mio sostegno alla legge pur riconoscendo la validità di certe obiezioni certo che poi un'altra cosa che io ho sottolineato che molti hanno detto eh ma questa legge tutela la misoginia l'omotransfobia ma non tutela gli uomini no non è vero no infatti è sulla base del genere infatti io ho letto questi messaggi che credo che tutto sia nato dal fatto che sia stata presentata come legge contro l'omobitransfobia però è ovvio perché quello sarà la stragrande maggioranza di campo di applicazione però se dovesse succedere che un maschio eterosessuale venisse discriminato può capitare in determinate circostanze ma non sistemiche ma può capitare ovviamente penso che quella legge valga anche per lui poi ovviamente non sarà non è stato non è quello il motivo che l'ha portato a creare ma è ovvio ecco a tal proposito volevo farti una domanda tu fai parte della comunità LGBT no? che rapporto hai con proprio l'associazione adesso non so se si può chiamare associazione comunque con il gruppo più attivista della società LGBT che è l'Archigay? vada io ti dico non conosco bene come funziona però dico c'è un un rapporto diretto che tu hai con questa comunità o semplicemente appartengo a questa comunità in quanto appunto ragazzo omosessuale cioè mi spiego meglio perché forse sono io che non so bene le dinamiche non c'è da parte tua un vero e proprio attivismo con delle delle associazioni o comunque delle proprio persone che si raggruppano per portare proprio la propria parola la propria ok ok ho capito la domanda mi sono spiegato male ma perché proprio io non ho neanche chiaro esattamente come può funzionare a livello di di organizzazione la comunità LGBT cioè se c'è qualcuno che guida qualcuno che trascina capito certo no assolutamente c'è un movimento è molto meno compatto di quelle che possa credere chi sostiene l'esistenza di una lobby gay però certo ci sono delle associazioni ci sono dei circoli il più grosso è l'Archigay e si cerca insomma di darsi una direzione unitaria sono realtà con cui ho sicuramente dei rapporti o perché magari vengo invitato in certi contesti che sia per formare o a tenere un discorso però non ho mai militato in queste associazioni pur avendo il mio totale sostegno sono cause che sposo infatti c'è un motivo se io non mi sono candidato a nessun ruolo politico nell'Archigay mi sono candidato a presidente del Mesa Italia perché in realtà per quanto riguarda la mia identità quell'aspetto di me secondo me è più fondante dell'orientamento sessuale che è ovviamente un aspetto importante di me ma perché la sessualità è una parte fondamentale insomma della nostra vita che va veramente a contaminare tutto dalla sessualità nel senso stretto ma l'affettività ai rapporti sociali al lavoro a tutto soprattutto se è una diversità ha un impatto sul tuo sviluppo però non cioè se uno mi dicesse descrivi scegli cinque caratteristiche fondanti della tua identità io non ci metterei omosessuale pur essendo molto importante non la metterei tra le prime cinque e infatti anche il mio pubblico non è non è un pubblico cioè molto molto eterogeneo sia in termini di genere che di orientamento sessuale però a livello di musica comunque l'omosessualità nella tua musica è qualcosa è un tema è un tema ricorrente è un tema assolutamente non l'unico anzi alcune tra le mie canzoni in realtà diventate più famose insomma all'epoca sul web non avevano questa tematica però sì certo quello sì 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 è un tema ricorrente ma anche come in generale tabù sulla sessualità sugli orientamenti sessuali perché comunque tu nelle tue canzoni in generale secondo me rompi proprio la tabù il tabù scusa di alcuni termini anche che sono appartenenti al sesso e che molto spesso non vengono fatti non vengono proprio utilizzati e quindi diciamo questo è forse la cosa che più ha tirato l'attenzione di te il fatto proprio di essere esplicito diciamo così sei molto esplicito sul sesso non hai i tabù o meno non sembra che tu li abbia magari li hai te lo chiedo a livello artistico sicuramente no e poi un'etichetta e come tutte le etichette ovviamente può stare stretta però ha dei vantaggi l'etichetta cosa fa ti rende riconoscibile come tutte le etichette è servita quella io avevo proprio un brand parlo un pochino al passato perché ultimamente poi mi sono molto più evoluto sulla satira di costume poi in realtà sono anni che non esco con qualcosa di inedito dovevo uscire quest'anno ma chiaramente con lo scenario attuale non ha alcun senso avere un progetto discografico senza poter fare un tour andrà per dire in una direzione diversa però quello del tema forte il tema esplicito ha connotato buona parte buona parte della mia scrittura e lì c'era anche un messaggio sociale perché io ho fatto l'ultima stagione di Loveline su MTV tu forse la ricorderai ancora ma sai che no cioè io guardavo in TV ma non guardavo i programmi guardavo la musica i video musicali poi i programmi quando io ero adolescente è un programma che ha fatto la storia con Camilla Razzovic era il programma in cui si parlava di sesso e fra l'altro in maniera fresca per niente morbosa aperta con un suo solo in studio con i ragazzi ha fatto veramente storia all'epoca ma ero un ragazzino io proprio e io ho fatto l'ultima stagione dopo non è più prodotto ma perché MTV ha smesso di produrre programmi ex novo e lì mi ha fatto impressione quanto poi tutto ciò che è educazione sessuale si è andato svanendo noi viviamo in una società estremamente sessualizzata estremamente tuttavia in termini di dibattito di contenuto si fa fatica in un media generalista a sentire parlare di educazione sessuale soprattutto rivolta ai più giovani perché la sessualità l'erotismo ok si manifesterà con l'adolescenza ma in realtà la ricerca del piacere la fisicità inizia anche prima sono argomenti ora considerati estremamente controversi io alle medie ho fatto educazione sessuale adesso le persone che conosco che lavorano nella didattica mi dicono che è sempre più difficile portare avanti ma comunque l'hai fatta in modo completo l'hai fatta in modo molto come dire superficiale secondo me a scuola si fa no l'hai fatta bene si 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 credo che tu sia l'unico perché io ho sempre sentito parlare veramente male dell'educazione sessuale a scuola io non l'ho mai fatta quindi non saprei come sia no si si mi è rimasta impressa questa cosa che poi ho paragonato a quello che sentivo durante questa esperienza di Love Line allora ti cito questa cosa che poi mi serve finito questo ciclo di lezioni in cui si è parlato di tutto dalle orientamenti sessuali alle pratiche veramente di tutto viene fatto girare questo cesto per mettere dei biglietti anonimi classica formula insomma per tutelare la privacy dei ragazzini delle ragazzine che si vergognano a un certo punto la sessuologa legge una domanda che era chiaramente scritta da un maschio che diceva sono una ragazza ho tanta voglia di bere sperma ma quanto posso berne e con tutti i ragazzi che per me era chiarissimo niente la sessuologa non è stata scomposta e ha spiegato le ragazzine tutte timide vabbè comunque la sessuologa non si scompone e spiega che sostanzialmente che al netto della trasmissione di malattie sessuali trasmissibili lo sperma è una sostanza nutritivamente irrilevante e quindi gli ha dato proprio la spiegazione di quanto ne avrebbe giusto no no totalmente ecco quando poi ho fatto l'offline c'erano le domande da casa le domande la maggior parte erano vere cioè quindi c'era proprio il ragazzo a cui veniva telefonato la ragazza che parlava meno che fossero minorenni allora si inscenavano però venivano selezionate durante il corso della settimana perché poi era in diretta c'era una domanda a cui abbiamo risposto una volta ma era quella che la radiazione continuava a ricevere ragazzine molto giovani parliamo anche di 12 anni 13 anni che chiedevano posso restare incinta con il sassorale e lì pensavo cavolo le mie compagne di classe anche grazie a quella domanda stupida sulla quantità massima di sperma ingeribile non l'avrebbero fatta sta domanda perché lo sapevano tutto soppipone per dirti che comunque c'era anche sì una finalità educativa nel fatto di parlare in maniera estremamente esplicita di pratiche sessuali perché comunque portava a un dibattito in una sessualità in una città sessuali chiedo scusa tendo a parlare molto velocemente in una società sessualizzata ma per certi versi ancora sessofoba nel senso che non se ne parla in termini di educazione è vero è un paradosso il fatto che in questa società il sesso sia importantissimo anche forse idealizzato molto spesso i maschi hanno quest'ansia del sesso ma neanche poi lo vogliono fare fisicamente io ho avuto più di un ragazzo che ho seguito che mi diceva io mi sento in colpa per non fare sesso ma non tanto perché mi manca il sesso ma perché sento quest'ansia sociale di dover perdere la virginità eccetera eccetera quindi una società molto centrata anche a livello di status soprattutto sul maschio magari più fai sesso più sei forte più sei percepito come forte però allo stesso tempo molto censoria io infatti sono sempre stato molto esplicito nei miei video io ho parlato di sesso di porno ne parlo anche qua su twitch e sono sempre molto esplicito la gente a volte ride perché che ne so ho fatto una live sul pene ho passato tutta l'aria a parlare del pene delle dimensioni non so le curvature del pene e dico anche le mie cose perché voglio dire voglio anche che sia una cosa naturale però sai è facile capire quali sono gli argomenti tabù perché io ogni volta che parlo di sesso e depressione sono i due argomenti che attirano più gente e quindi capisco già solo dall'attenzione che questi due temi riscontrano che sono temi di cui le persone non sentono parlare in altri ambiti e quindi alla fine quando ne parli tu risulti quasi appunto strano risulti quasi particolare e dunque sono d'accordissimo con tutto il tuo discorso ma secondo te basta la scuola servono anche i media per forza in questo discorso di stoganare anche un po' il tabù del sesso e poi ti chiedo anche secondo te è giusto sdoganarlo completamente o forse come esseri umani anche una sessualità più intima ci può ci può dare può dare al sesso un valore maggiore magari sdoganandolo eccessivamente poi anche il sesso stesso possa perdere valore a volte nel bene a volte nel male mi hai fatto un cruciolo di domande allora è sufficiente è sufficiente l'educazione nelle scuole no non lo è perché vanno educati i genitori c'è questa idea che ci sia un corso per tutto ma il sesso lo impari da solo perché l'hai imparato anche tu da solo facendo esperienza quindi lo imparerà anche tuo figlio con i porno esattamente purtroppo alla pornografia viene delegato un vero e proprio aspetto pedagogico didattico ed è come pensare di imparare a guidare guardando Fast and Furious sostanzialmente e le risposte a questo problema che a volte vengono sollevate è blocchiamo la pornografia quando è una risposta sbagliata a un problema reale il problema è veramente a monte mi hai chiesto non si corre il rischio di andare a svilire la sessualità ma certo ma l'educazione sessuale non è adesso ti insegno a scopare dalla mattina alla sera a farlo nei cessi è anche educazione emotiva perché l'educazione alla sessualità è complessa perché trascende vari ambiti dalla medicina alla sessualità alla psicologia all'educazione emotiva vera e propria significa anche insegnare il consenso significa ascoltare il proprio corpo addirittura guarda questo lo so perché ho organizzato proprio una videoconferenza per il Mensa Italia su con gli sessuologi proprio sull'importanza dell'educazione sessuale pensa che fare educazione sessuale ha come risultato che si alza l'età del primo rapporto che sembra quasi intuitivo no? antiintuitivo perché significa consapevolezza significa consapevolezza quindi no non vedo rischi se fatta bene no sono d'accordo in realtà è la mia più una domanda provocatoria però volevo volevo sapere la tua opinione allora adesso in chiusura raccoglierei a parte qualche domanda che magari ci fanno chi ci sta seguendo anche una domanda abbiamo parlato molto di sesso insomma di sessualità però a me interessa anche l'aspetto della plus dotazione se si può definire così immagino immensa una società di persone plus dotate ecco in che modo questa etichetta è entrata nella tua vita cioè come l'hai scoperto e in che modo l'ha condizionata negativamente e positivamente vedi adesso sono due domande sto migliorando come intervistatore certo certo allora allora dammi un tempo per questa risposta ma dipende quanto tempo hai tu prima di dover andare a letto io ce l'ho io ce l'ho allora vai tranquilla in caso fammi un cenno allora perché è un discorso abbastanza ampio parliamo del quoziente intellettivo di che cos'è il quoziente intellettivo che è un argomento storicamente osteggiato perché viene visto come un primo passo della discriminazione perché apre a scenari di selezione eugenetica adesso decidiamo chi si può riprodurre inoltre credo che venga osteggiato anche per via di una concezione inevitabilmente creazionista che noi abbiamo in cui la mente è una manifestazione di dio dell'anima dentro di noi quindi è considerato legittimo misurare le diverse prestazioni fisiche lo sport spesso è questo misuro quanto più in alto salti quanto più velocemente corri ma se vado a misurare le tue prestazioni intellettive c'è qualcosa che non va ah comunque cala questo spettro della discriminazione di qualcosa di sbagliato sì ma in realtà la verità è la verità è poi l'uso che ne fai inoltre si tratta di contestualizzarlo questo quotiente intellettivo quotiente intellettivo diverso intelligenza questo è importantissimo il quotiente intellettivo è un fattore che descrive un segmento dell'intelligenza che poi proviamo grizzamente a definire è un fattore che storicamente gode di grande considerazione perché ad oggi è l'unico misurabile numericamente è il segmento deputato ai processi logici io posso somministrarti una batteria di problemi logici culture free quindi senza elementi culturali il più possibile poi del tutto non è impossibile ma vabbè sto prendendo un altro inciso e lì posso posso misurare quanti ne risolvi in quanto tempo posso condurre uno studio scientifico a tutti gli effetti posso trarne data una scala un numero quindi storicamente questo è passato come il metodo principe per misurare l'intelligenza ma è sbagliato è effettivamente misurabile ma è un segmento di un concetto molto più ampio quando noi colloquialmente definiamo una persona intelligente ci mettiamo dentro di tutto ci mettiamo la saggezza la maturità la profondità di pensiero l'empatia la sensibilità la cultura ci mettiamo dentro perché effettivamente si innesca un circuito virtuoso più noi conosciamo più ci rendiamo conto di non sapere più la nostra intelligenza che ora andiamo a definire aumenta quindi c'è una relazione con la cultura anche la vice che è considerato il test più autorevole per la misurazione del cui ha degli elementi culturali perché non si riesce del tutto a scendere comunque in ambito academic c'è un qualcosa come 48 definizioni tutte accettate di intelligenza io vi do quella che piace a me che è comunque reduttiva però è quella di David Wechsler la cui scala è quella più comunemente utilizzata per stabilire il quotiente intellettivo che è quella che fissa il cui medio della popolazione tra 90 e 110 con media 100 tipo la soglia del mensa è 131 15 deviazioni standard lui definisce l'intelligenza come la capacità globale aggregata dell'individuo di agire con intenzione per vincere le sfide dell'ambiente bella 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 analizziamola capacità aggregata globale non c'è un aspetto non mettiamoci lì a cercare di definirlo perché è troppo sfaccettata è proprio un poliedro globale e quindi bello fra l'altro piccolo inciso possiamo anche chiederci che cos'è la stupidità al contrario se l'intelligenza è il pensiero complesso è ciò che è sfaccettato la stupidità è ciò che è bidimensionale ciò che divide tornando al discorso di prima a fazioni capacità aggregata globale di agire con intenzione l'intenzione per me è la consapevolezza so cosa sto facendo so perché lo sto facendo non sono agito dai miei bisogni e dalle mie paure che non posso rimuoverne non posso rimuovere ora si sente dire dobbiamo rimuovere l'emotività ma questa è una sciocchezza noi tu mi insegni siamo fatti di emotività l'obiettivo è essere consapevoli dei propri bias delle proprie emozioni quindi agire con intenzione per vincere le sfide dell'ambiente cos'è una sfida dell'ambiente? tutto dal procurarti il cibo al vincere un dibattito quindi non ha neanche senso poi contrapporre magari diversi ambiti professionali chiedendosi in quale serve più intelligenza l'intelligenza si manifesta anche nel capire come andare a raccogliere un frutto questa è una tipica questa è una definizione esaustiva ok scusa l'ho pure interromperti perché sei molto interessante però volevo fare un appunto su questo io credo che questa sia un'ottima definizione di intelligenza ma applicata cioè io questa la descriverei come un'applicazione un alto livello di capacità di applicazione dell'intelligenza sai qual è il problema? io molto spesso vedo ragazzi che hanno un'alta intelligenza ma scarsamente sono in grado di applicarla cioè di riuscire a coinvogliare le loro capacità potenziali quindi secondo me bisogna anche distinguere tra intelligenza applicata e intelligenza potenziale qualcosa che è un potenziale inespresso può essere comunque in potenza una grande intelligenza applicata quindi è molto interessante questa definizione perché è molto generale e non esclude altri livelli di intelligenza come hai detto giustamente tu però ecco secondo me qua c'è dietro un'intelligenza molto c'è l'intelligenza di saper applicare l'intelligenza che è qualcosa di fondamentale giustissimo e devo dire che tu hai messo in luce in realtà una limitazione di questa definizione perché proprio non prescinde dall'applicazione a me piace per quello proprio perché mette in relazione il potenziale all'applicazione del potenziale certo chiaro una persona può avere un ormai potenziale ma se sistematicamente fallisce tutte le sfide che la vita gli pone io non lo percepisco come intelligente giudizio strettamente personale è giusto no no ma è un'ottima definizione di intelligenza però appunto rischia di essere appunto un po' solo nega l'importanza del potenziale sì sì forse nega l'importanza del potenziale ti faccio una domanda guarda una cosa a cui tengo molto io un tema a cui tengo molto è quello dell'iperrazionalità credo di essere uno dei pochi qua flexo diranno che me ne vanto ma quando faccio qualcosa di cui sono orgoglioso non ho problemi sono uno dei pochi che parla del problema o comunque della questione dell'iperrazionalità cioè del fatto che oggi abbiamo la tendenza ad avere una grandissima fiducia nella razionalità cioè nel pensiero che potremmo definire appunto non istintuale tutto ciò che non è istintuale e invece una grande sfiducia nell'istintualità che invece è descritta come bestiale come animale no? quindi la razionalità è ciò che definisce l'umano e l'istintualità è ciò che definisce l'animale quindi qualcosa da evitare diciamo qualcosa di meno nobile ecco io sentendoti parlare credo che tu possa avere avuto dei problemi con l'iperrazionalità cioè con gli elementi negativi o come dire i contro di una mente molto razionale perché sentendoti parlare tu mi sembri una persona molto razionale ecco sei mai hai mai avuto problemi con la tua razionalità e soprattutto hai mai cercato di ribilanciare la tua razionalità con la tua istintualità sì provo a risponderti e fra l'altro mi ricollego anche alla domanda che mi hai fatto prima in che modo magari la postulatazione possa aver avuto un impatto sulla mia vita però abbiamo già fatto un discorso dove abbiamo ben spiegato che cos'è appunto il quoziente intellettivo dove per concludere questo discorso io conosco persone con un elevatissimo quoziente intellettivo e che io posso solo definire stupide stupide perché proprio la definizione che ho dato prima di intelligenza non si applica a queste persone sono molto veloci nell'effettuare i processi logici ma qualsiasi processo logico che parte da premesse sbagliate arriva a conclusioni sbagliate e questa razionalità di cui stai parlando io la vedo veramente come uno strumento che è nelle nostre mani che è nelle mani dell'emotività e poi l'emotività che decide infatti il problema il problema è sempre a monte tra una persona con una forte plusnotazione ma dei pregiudizi dei bias o l'emotività indirizzata in una certa direzione e una persona con un quoziente intellettivo nella media ma consapevole dei suoi bias la seconda arriva molto prima alla comprensione della verità della prima ma molto perché lo strumento è lì ma se non lo usi non lo utilizzi venendo a me sull'impatto che ha avuto su di me sì sono sicuramente iper iper razionale e è un lavoro costante quello che faccio per dare legittimità alla mia estentività però sono molto consapevole della mia emotività cioè sono uno che non ha difficoltà a parlare delle delle sue emozioni sono molto introverso quindi scelgo molto le persone con cui farlo però poi mi apro come una cozza e sono molto bravo a indurre gli altri gli altri a farlo fra l'altro sono anche quel tipo di persona che in un contesto conflittuale come quelli che sono anche intrinsechi intrinseci o intrinsechi qual è il plurale intrinseci intrinseci alla leadership sostanzialmente se io ho una persona che mi attacca la mia reazione è allora è evidente che sei arrabbiato adesso sediamoci e dimmi perché stai male roba del tipo non fatelo a casa se non vi viene come naturale predisposizione quindi queste cose le faccio però no l'istintività è proprio una cosa che io non ho cioè pianifico tutto nel dettaglio non sono assolutamente una persona spontanea poi in che modo queste caratteristiche possono avere avuto un impatto su di me nello specifico io non solo una pulsatazione ma anche dei deficit sono un cosiddetto due e twice exceptional ossia che è molto lusinghiero come termine ma vuol dire persona che sia anche nel pulsatazione che dei deficit ossia rientro nella neurodiversità in particolare o dei dsa abbastanza pesanti quindi ad esempio sono cresciuto con la netta percezione di essere più intelligente in termini ecco vedi interessante questa cosa più intelligente in termini di capacità cognitive cioè comprendere subito prima degli altri ma spesso passavo per stupido perché non ero in grado di applicarlo questo potenziale fra l'altro questa è una cosa molto interessante a molte persone se tu dici di avere un alto quotiente intellettivo ti dicono ah ok fammi la radice di no per far di calcolo non serve l'intelligenza quello è un automatismo che 5 più 5 fa 10 non ce lo dice mica l'intelligenza ce lo dice la memoria sono le tabelline una persona con un basso quotiente intellettivo può essere una calcolatrice umana se ha allenato l'automatismo l'automatismo si basa sulla memoria di lavoro chi come me ha un DSA tipo dislessia disgrafia avrei sentito che a volte quando parlo inverto le parole non faccio apposta fa una fatica bestia in quelle robe lì quindi sono cresciuto sia con una percezione importante di quelle potessero essere le mie capacità cognitive sia con una mostruosa percezione di limiti che poi quando mi sono stati diagnosticati invece tutto poi si è incasellato e questo sicuramente ha confluito con una notevole solitudine sperimentata crescendo una cosa che io trovo in persone che hanno caratteristiche simili alle mie è proprio la velocità di pensiero ed è buffo perché sono persone che come me parlano troppo velocemente si mangiano le parole però io empatizzo perché capisco che pensano molto più velocemente di quanto parlano e proprio li vedo che soffrono e lo capisco e questa velocità di pensiero effettivamente mi fa sentire molto capito e non ho modo di dire questa cosa senza snobismo ma di nuovo stretcio il concetto che qui non è intelligenza detto questo in persone che magari non hanno questa caratteristica sì quando iniziano un discorso e io ho già capito la fine delle loro tesi e sono lì che devo aspettare 20 secondi quando io ho già capito la fine del discorso però per educazione non lo dico chiaro no no è una cosa che in effetti è comprensibile ma una cosa forse che hai omesso è quando hai deciso o comunque quando hai fatto il test questo ti ha aiutato cioè tu consiglieresti una persona che sospette di essere più sdotata di misurare il QI o questo può essere qualcosa di hai già capito la domanda quindi vai io sono a favore di qualsiasi strumento o pratica finalizzata alla conoscenza di se stessi si tratta di capire che cos'è come ho detto non basta avere il numerino devi capire esattamente che cosa descrive quel numero sostanzialmente però però sì poi dipende cosa ne fai con questa informazione ci sono persone che magari sperimentano per tutta la vita un ampio livello di frustrazione e poi hanno questa questa risposta e gli dicono ah ecco l'ho sempre saputo io ero intelligente e gli altri erano stupidi eh no se torniamo alla definizione prima di intelligenza probabilmente lo stupido eri tu poi sì puoi avere questa cattedrale nel deserto quindi starei molto attento a viverlo come elemento ribaltante della percezione di se stessi ecco questo no però in termini di maggiore conoscenza ma sì come uno misura proprio peso perché non debba non vedo perché non debba misurare quanto è veloce nei processi logici perché no ok ultima domanda che io poi appunto veloce cerchiamo di non lo dico per me non per te perché appunto io ti ascolterei assolutamente sei un personaggio molto interessante perché hai tanti tante cose no su cui magari andare a indagare quindi hai tanti anche argomenti su cui potresti interpellato ti farei mille domande ma non voglio neanche che la live sia lunghissima perché poi magari qualcuno si la può recuperare una cosa tornando al tema omosessualità come cioè tu quando puoi spiegarci quando l'hai capito come ha impattato questa cosa nella tua vita cioè in che periodo della vita cioè sono curioso di capire quanto poi effettivamente questo aspetto della tua identità abbia contribuito magari a delle difficoltà sociali una domanda banale però importante è avuto un un impatto molto molto importante allora considera che sebbene io fossi consapevole del fatto che la mia affettività e sessualità fosse stimolata solo dal genere maschile vabbè fino ad arrivare a elementi incontrovertibili quali le fantasie su cui mi masturbavo mi eccitavo all'odore del sudore dei compagni di classe cioè questi elementi ma già prima guardando indietro le mie cotte proprio le prime proprio all'inizio inizi dell'adolescenza e preadolescenza erano solo per ragazzi la direzione era molto precisa tuttavia e ricordiamo che io non sono cresciuto nell'ottocento stiamo parlando degli inizi degli anni novanta in cui però non c'era molta informazione in merito soprattutto insomma nella cultura generalista nella mia testa io mi sarei sposato con una donna avrei avuto dei figli perché così facevano tutti io guardavo le ragazze le giudicavo anche in base alla bellezza ma naturalmente come potrei giudicare una bellezza artistica architettonica senza un trasporto fisico d'eccitazione sostanzialmente in base al carattere a quanto mi piacessero come esseri umani ma non c'era quell'eccitazione quell'elemento che doveva essere poi fondante del trasporto io avevo questa dicotomia in testa e per me aveva senso cioè mi masturbavo pensando ai maschi però poi sarei andato con delle donne cosa succede? e qui veniamo all'importanza della rappresentazione un giorno stavo guardando un programma condotto da Ambra Giolini che si chiamava Generazione X uno dei primi talk show cioè pubblico in sala si parla cioè all'epoca il format era veneristico perché non esisteva e a un certo punto chiama un ragazzo dicendo di essere gay perché a lui piacciono i maschi ora col giorno di poi secondo me era finta quella chiamata volevano trattare l'argomento ma ben venga ben venga per me lì è cambiato tutto io avevo sentito ovviamente quella parola io avevo boh dodici anni l'avevo sentita tante volte ma non avevo mai pensato che si potesse riferire a me in quel momento io ho capito che quell'aspetto di me aveva un nome e avrebbe cambiato la mia vita per sempre allora sono andato in biblioteca non c'era internet come mi informo sono andato in biblioteca vado non c'erano degli archivi bisognava parlare alla persona al banco ricordo perfettamente che mi tremavano le gambe dalla paura e come capita spesso quando si è insicuri ho mentito senza ragione di mentire dicendo che a scuola mi avevano dato da fare una ricerca sull'omosessualità cioè ci avevo raccontato una storia dietro e mi servivano dei libri sull'omosessualità lei mi porta tre libri fra l'altro ora penso fossero anche piuttosto mediocre che davano una prospettiva storico psichiatrica anche molto acerba il fatto sta che io mi sono chiuso in biblioteca ho continuato a leggere 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 e lì veramente ho capito ho capito che non ero solo l'unica persona ad avere quella caratteristica oltre ad avere un nome fra l'altro anche molto comica il mio primo coming out ossia ne ho parlato con un compagno di classe dicendo guarda c'è questo termine omosessuale e io ho scoperto di essere omosessuale perché a me piacciono i maschi lui mi ascolta e serio fa no no io sono sicuro di essere donno sessuale perché pensavo che omo fosse per attrazione arrivate 12 anni quindi ci sta già che non ha reagito in modo omofobo vuol dire che già era forse abbastanza avanti no anche come accettazione probabilmente comunque l'hai mai dovuto sopprimere cioè l'hai mai dovuto nascondere no no cioè da quando me ne sono reso conto ho fatto effettivamente subito coming out in famiglia fin troppo presto nel senso a 14 anni è stata mia madre che l'ha fatto con le motivazioni più nobili mi ha fatto un bellissimo discorso ma per me era troppo presto da lì il mio consiglio fra l'altro ai genitori che si rendono conto di avere un figlio che possa essere omosessuale di stare al balcone far capire che c'è totale amore accettazione però al coming out bisogna lasciare tempo il ragazzo o la ragazza di farlo perché se lo sta vivendo ancora in maniera molto intima cioè la sensazione che io ho provato è stata quella come se mi avessero esposto ai genitali cioè di fronte a tutti no no in famiglia però no poi a scuola no no è possibile che io sia stato il primo caso al liceo artistico proprio di coming out eclatante ero fra l'altro rappresentante di classe rappresentante di istituto anche questo ricordo molto bello di un insegnante di italiano una di quelli insegnanti che tutti si meritano nel senso che lei andava bene per me per altre persone non era adatto però incontrare quell'adulto che veramente ti sbroglia la matassa che ti capisce che indirizza i tuoi talenti di modo che non si arriccino su se stessi cioè per me lei ha fatto una differenza enorme è stata lei fra l'altro a rendersi conto che non era ignorante non ero pigro ma ero dislessico su alcune domande tipo ad alta voce chiedevo io non riesco a memorizzare se Italia è con la GL o con la L se io non lo leggo non lo memorizzo tutti che ridevano lei poi privatamente dice no qua c'è un problema e effettivamente poi mi ha fatto fare dei test comunque prima ancora di questo momento lei a un certo punto ma ero in seconda liceo mi chiede di leggere un testo io mi vergognavo a leggere ad alta voce perché essendo dislessico invertivo l'ordine delle parole faccio molta fatica e dico no mi vergogno lei si gira fa Manuel un ragazzo che ha 15 anni a Bergamo non si vergogna a dire di essere un culattone non si può vergognare a leggere questa live la toglierò ah cazzo scusa è vero questa live lo dico siccome ci sono stati almeno tre termini che Immanuel ha detto sbagliando questa live la toglierò e la metterò su youtube però qua su twitch no perché se no mi bannano il canale Immanuel se mi bannano il canale poi ti chiedo i soldi perché io ci guadagno no sta scherzando vabbè ci sta chi non è abituato può capitare vabbè comunque portiamo a termine la live prima che mi bannino no ma perché sono molto gici di questo twitch su questi termini non so se secondo te è una cosa giusta o sbagliata ma c'è un algoritmo che controlla di solito se nessuno segnala nessuno ti banna ma io sono abbastanza enterato quindi un segnalatore abusivo ce l'ho sempre però diciamo dai che di solito basta toglierla alla fine da twitch e quindi in teoria dovresti salvarle tra l'altro mi dissocio non so se questo aiuta però ma perché è una cosa molto rigida non è neanche interpretativa a volte è proprio ha scusato quella parola e non si può dire vabbè comunque scusami era per specificare comunque nel senso questo ti ha finisce il discorso perché sennò ti no no avevo avevo finito quello per me fu un esempio in realtà estremamente positivo quindi certo è una cosa che ha avuto un grosso impatto sulla mia vita fra l'altro ho iniziato a fare sesso molto presto non credo più presto di quanto fosse sano intorno ai 16 anni però avevo una vita sessuale che i miei compagni di classe non avevano neanche idea di cosa potesse essere probabilmente alcuni tutt'ora vabbè ultima domanda flash su questo tema hai subito bullismo per l'omosessualità la risposta esatta è ci hanno provato tu hai sempre avuto una personalità così forte cioè sei sempre stato un ragazzo così sicuro così anche mi sembra un ragazzo molto insomma tosto non so se magari lo sei diventato o sei sempre stato conviveva conviveva in me una profonda insicurezza disagio disagio esistenziale ma una fortissima determinazione nel portare avanti determinate cause guarda ti racconto questa cosa proprio brevissima proprio brevissima dal non lo so adesso sto attentissimo coi termini dal il compagno di classe che con termini coloriti mi prende per la maglietta mi sbatte al muro dicendo dato che io ero bravissimo in chimica tu mi devi far copiare il compito va bene ok ci sediamo e siete a fianco a me durante la verifica gli passo un un foglietto con le risposte alle domande non è che glielo ho dato a casa glielo ho dato tutte sbagliate dalla prima all'ultima poteva anche menarmi però questa è stata la mia risposta al bullismo oppure una succede che durante un'ora buca come si definiva a bergamo quindi mancava l'insegnante ma qua anche a mille ah ok qua già verso la fine fra l'altro del percorso scolastico era probabilmente ero già in quinta ieri eravamo a giugno stiamo giocando e lei mi tiene ferme le braccia dietro la testa mentre il compagno di classe mi innaffia con dell'acqua stiamo facendo gli sciocchi proprio un gioco di ragazzi io per farmi mollare da questa ragazza le do un vigoroso morso sul braccio l'abbia distrutta le ha dato un vigoroso morso lei la prende a ridere ovviamente e da lì la cosa finisce il giorno dopo non viene a scuola il giorno dopo ancora neanche poi arriva e vedo che ha un'area proprio livida e terrorizzata dopo le lezioni mi prende da parte e mi dice Manuel due giorni fa sono tornato a casa si vedevano ancora quell'alone rosso tipico di quando lascio un morso quando ho detto a mia madre che mi avevi morso tu mi ha portato subito dal medico il quale quando ha saputo che tu eri omosessuale mi ha guardato la pelle mi ha detto che c'erano delle micro abrasioni quindi qualora tu avessi avuto dei tagli attraverso la salita la saliva magari mi hai potuto trasmettere l'HV ah l'HV pensavo che diventasse omosessuale no no magari ma siamo a livello di Twilight se il morso di una persona omosessuale no l'HV ok ho capito vabbè ok ha un alto grande stigma sì sì ma comunque questa è un'interpretazione molto fantasiosa che si trasmette a mordendo sì 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 no no lo so però io mi stavo facendo una cosa ancora più assurda a me lo parlo anche un medico ho già inaugurato questo la mia prima reazione al momento io ero mortificato perché vabbè chiaramente io avevo sbagliato a mordere il contesto era goliardi ma non è un gesto difendibile ci mancherebbe e lei era distrutta era psicologicamente distrutta lei era convinta di dover morire convinta quindi la mia prima reazione è stata l'empatia sono stato veramente male per lei è arrivato a casa però lì mi è montata una rabbia ho chiamato a casa mi risponde ora non dico il nome di questa ragazza e dico mi passi tua madre no perché io ho bisogno di parlare con tua madre perché lei è il problema ma no dillo a me dico benissimo allora questo bravo medico ti avrà detto che ora tu dovrai fare il test dell'HIV il problema che c'è una finestra di tre mesi sei mesi per essere sicura al cento per cento che non ci sia stata una seroconversione di per piacere a tua madre che auguro a te a tutta la tua famiglia di passare un inferno durante questi sei mesi per rendervi conto nel livello di ignoranza in cui sguazzate quindi questo di solito era il mio la mia risposta al bullismo quindi la risposta ci hanno provato tanto adesso giuro che entro qualche minuto la chiudiamo però ho un'altra domanda molto molto che mi preme perché mi hanno detto Zelmi una delle mie followers una ragazza che mi segue che tu sei abbastanza critico sulle dating app quindi ti voglio chiedere una domanda generale sulle dating app che io di solito invece promuovo anche come possibilità di ampliamento per i maschi perlomeno per fare pratica anche come dire essere in grado di migliorarsi però voglio chiederti una cosa specificatamente su Grindr che è l'applicazione appunto utilizzata la dating app soprattutto per il mondo omosessuale bisessuale lì c'è da specificare c'è la possibilità di specificare se hai o meno l'HIV ecco secondo te questa è una cosa corretta o discriminatoria e poi un parere in generale sulle dating app allora partendo dalla seconda ma io non è che abbia un parere strettamente negativo sulle dating app di per sé sono negativo sul fatto di limitare le conoscenze a queste app è questo che secondo me è deleterio ossia cercare di andare a muso duro nel cercare delle amicizie o delle relazioni affettive sulla base del nulla secondo me è più difficile che non partendo da un elemento comune che sia una causa che sia un hobby quindi frequentare fare delle attività l'avere quel qualcosa in comune tipo una famiglia che cosa ha in comune i legami di sangue che è una connessione poco interessante secondo me però quante cose si fanno in virtù di questo legame al posto dei legami di sangue ci può essere l'adesione ad una causa una passione che si porta avanti tutte le settimane questo secondo me per una persona che è sola e cerca dei contatti umani è più sano che non mettersi sulle app che invece sono molto prone a dinamiche da trita carne proprio cioè come l'orbiting il ghosting che anche tu conosci perfettamente ok per rispondere al Grindr è un ambito in cui non è raro assistere ad abbruttimenti umani sostanzialmente non perché si cerca il sesso non c'è niente di male anzi venga di essere onesto questo secondo me è una cosa che gli eterosessuali hanno da invidiare agli omosessuali ossia che ci sentiamo più liberi nel dire se vogliamo semplicemente fare sesso mentre tornando questi retaggi patriarcali a volte una donna che semplicemente ha voglia di godersi la sua sessualità si può magari sentire in obbligo di infilarci in mezzo un'uscita anche se proprio non ne ha voglia mentre no in queste app tu scrivi proprio ho voglia di fare sesso ho voglia di fare questa cosa va benissimo hai voglia anche tu facciamolo però è la modalità spesso è proprio incentrata il tipo no persone con questa caratteristica diventa veramente avvilente se non si ha proprio una propria una propria accentratura riguardo alla domanda scusa non pensi sia una forma di utilizzo di quest'app più che l'app stessa cioè non credi che sia un uso sbagliato perché io credo che comunque si possono essere degli strumenti poi come dici tu giustamente possono portare degli abbruttamenti però volevo solo dire forse è l'essere umano che sbaglia di usarle no ne sono convinto ok va bene riguardo alla possibilità sai che ci devo pensare nel senso che allora sarei contrario se non fosse discrezionale se ci fosse una casellina che tu devi barrare devi dire hiv meno o hiv più non hai scelta qui tu puoi scegliere di metterlo a me sembra che questo risolva il problema non lo risolve del tutto obiettivamente perché chiaramente chi è siero negativo sarà molto più invogliato nel mettersi un bel hiv meno rispetto a un siero positivo quindi può comunque indurre mi stai seguendo? sì 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 ti sto seguendo ok quindi nel momento in cui tu non vedi l'indicazione puoi presumere puoi insospettirti mettiamola così quindi riconosco in effetti la legittimità della della domanda ci devo pensare no ma più che altro il punto è che è solo chiesto in una dating app omosessuale mentre in una dating app come Tinder teoricamente eterosessuale anche se in realtà la usano anche persone omosessuali e bisessuali questa cosa non è chiesta quindi secondo te è uno stigma c'è l'idea che una domanda sull'HV venga fatta a un pubblico omosessuale ho capito adesso la tua domanda credo che tu abbia capito come l'ho intesa io sì 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 in qualche modo una violazione della privacy ah ok volevo sapere che se secondo te è un non la vedo come stigma no assolutamente il fatto che se ne parli di più indica una maggiore consapevolezza io sono stato più volte in centri di MTS a fare dei test o perché mi ero peso una malattia assolutamente trasmissibile per mia fortuna insomma nulla di incurabile ma ci sono andati in questi centri c'erano solo donne e omosessuali gli uomini eterosessuali a quanto pare non prendono malattie assolutamente trasmissibili io devo aver deduto questo penso che ci sia maggiore maggiore consapevolezza anche data dal fatto allora è sicuramente vero che gli uomini omosessuali hanno più rapporti sessuali perché la sessualità maschile è diversa da quella femminile il maschio è più prono anche per questioni fisiche ad avere rapporti mordi e fuggi poi c'è il mattone dell'aspetto culturale quindi metti insieme due maschi è più facile che abbiano facilmente rapporti sessuali sono più proni poi a rapporti occasionali quindi se aumenti il numero di partner aumenti le occasioni questo non è un pregiudizio secondo me è effettivamente vero e anche il sesso protetto qua dicono per esempio magari non so stragi omosessuali magari non essendoci l'ansia di rimanere incinta si può utilizzare magari meno il preservativo è un incentivo minore no però qua è nato un grosso cambiamento per molto tempo secondo me il preservativo era molto più usato dagli omosessuali io avevo amiche che amici che proprio non ne volevano sentire parlare di preservativo e la risposta è eh vabbè sto attenta a quei giorni faccio no non hai capito cioè una gravidanza è bruttissimo a dirsi ma ci sono delle alternative se non la vuoi certe malattie sono tipo un diamante te le tieni per sempre però no non c'è preoccupazione per le malattie sessualmente trasmissibili quindi per me per lungo tempo veniva utilizzato il preservativo molto di più dagli omosessuali e fra l'altro è facile in un locale gay trovare questi cesti di preservativi in un locale eterosessuale cioè in un bar in un mica trovi vicino alla cassa il cesso dei preservativi in un bar con l'utenza omosessuale sì soprattutto all'estero ma anche in Italia ti trovi sto cesso sto cesto è un modo appunto per incentivare la pratica è crollato crollato l'utilizzo dei preservativi negli ultimi anni a causa della prep sai che cosa sia? no allora la prep è un farmaco prep sta per profilassi non mi ricordo non mi ricordo magari qualcuno in chat mi saprà correggere però è un farmaco che inizialmente è utilizzato nella terapia retrovirale per chi appunto ha subito una sieroconversione quindi è sieropositivo affinché poi questo status sierologico non si trasformi mai in una vera sindrome insomma da immunodeficienza che può portare la morte ormai l'HV non è più una sentenza di morte grazie a l'HDS l'AIDS l'HV diventa AIDS questa la taglierò AIDS anche io ogni tanto ho un po' di dislessia da temo però va bene ci siamo capiti no non credo avere l'HV non è necessariamente sinonimo di avere la malattia per niente non è più una condanna di morte no no volevo dire quello certo chiarissimo chiarissimo ora con la prep è un farmaco che tu devi prendere regolarmente e sembra che abbia non sembra ha degli ottimi a livello di studi degli ottimi risultati nella prevenzione dell'HIV non si può dire che sia una copertura al 100% ma sembra andarci vicino ci sono dei casi al mondo di sieroconversione di persone che erano in terapia con la prep ma sono statisticamente privi di alcun rilievo quindi effettivamente ovviamente è sbagliatissimo parlare di vaccino perché non è la metodologia del vaccino è un farmaco che tu ti prendi e non contrai l'HIV però c'è un però enorme ci sono due grossissimi contro innanzitutto è un farmaco quindi prendere quotidianamente un farmaco per evitare di prendere il preservativo e comunque sappiamo che poi gli effetti a lungo termine sul farmaco vengono studiati in ambito medico nei decenni 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 quindi mettersi in cura preventivamente già è discutibile molti medici lo sconsigliano e poi comunque per l'HIV ci sono tutte le altre ci sono tutte le altre malattie c'è stato un momento in cui volevo creare prep go tipo l'app pokemon go catch them all prendile tutte gonorrea sifilide condilomi puoi fare veramente fare una collezione e queste sono purtroppo aumentate a causa l'epatite c'è stata a Bologna due anni fa un'esplosione di epatite proprio in seguito dell'introduzione della prep perché smetto di usare il preservativo e queste invece invece via infatti ho l'ultimissima domanda giuro infatti siamo a due ore precise l'ultimissima domanda è inerente sempre su questo tema perché proprio ho una curiosità abbastanza morbosa ho visto molto tempo fa un servizio delle Iene in cui c'erano i cosiddetti donatori di HV immagino l'abbia visto anche tu non so se l'hai mai visto no è un servizio dove venivano mostrati non so neanche quanto vero falso perché poi quando si ha a che fare con le Iene non si sa mai no certo però c'erano questi cosiddetti donatori di HV che praticamente si incontravano con una persona che voleva l'HV per togliersi sostanzialmente il pensiero di poterla prendere cioè di poter fare tutti i rapporti sessuali che voleva senza usare il preservativo e senza l'ansia di magari beccarsela e poi di non sapere di averla quindi dicevano facciamo sesso so che tu hai l'HV so che me la prendo così poi mi tolgo il pensiero e incomincio a curarmi ecco a parte che questa cosa è agghiacciante immagino però volevo sapere da te se secondo te è una cosa vera possibile che esistano veramente persone che volontariamente nel mondo in particolare omosessuale decidono di contrarre l'HV per non pensarci più diciamo da così perché tanto prima o poi la prenderò se faccio un certo sia di vita e appunto se la ritieni una cosa sensata ma credo di no perché è una cosa come dici tu molto comunque grave nonostante sia curabile comunque può sempre una malattia che ha bisogno di essere curata per tutta la vita allora sì so per certo che esistono persone che cercano di fare questo percorso correggo una piccola cosa che hai detto ossia tu hai detto so che ce l'hai so che me la prendo non è vero no no questo è un discorso sì sì scusami no certo no ho capito che lo stavi riportando però specifico beneficio di chi ci segue non è matematico se hai un rapporto non protetto dipende da quello che fai e fra l'altro le probabilità sono comunque fortemente contro l'HV è un virus anche difficile da prendere spaventa tanto perché non è curabile ma tipo la gonorrea o la sefilide è quasi certo che te le prendi mentre l'HV è anche difficile da prendere specialmente se tipo hai un ruolo penetrativo insertivo sì sì so che ci sono persone è una cosa in realtà di cui si parla da molti anni non ti so dire se il numero di queste persone sia tale da costituire un problema degno di emozione o se non rientri nel folklore francamente però sì ho sentito anch'io di persone che cercano la sieroconversione così si tolgono il problema che è veramente sì è veramente sciocco perché comunque anche la terapia ha delle controindicazioni come tutti i farmaci non è bello è sicuramente una condizione che è auspicabile evitare hai citato le Iene allora due minuti posso chiudere con un aneddoto sulle Iene vai vai ci mancherebbe perché guarda fra l'altro è molto divertente e va a toccare alcune cose che vi hanno detto in questa diretta allora io avevo aperto con la mia azienda avevo preso in licenza il marchio Pornhub per un anno vendendo merchandising abbiamo aperto un Temporary Store a Milano in più ho fatto firma copie perfetto per i regali natalizi con i miei giochi i dischi arrivano le Iene non ricordo il nome della giornalista e mi chiedono se mi possono fare un'intervista posso provare un attimo arrivo e inizio allora il microfono e iniziano a chiedermi ma allora ma senti ma sai tu fai queste canzoni e allora io mi tarò sempre sul registro dell'interlocutore se la persona vuole portare avanti una conversione demenziale a me va bene non ho voglia di fare l'intellettuale va benissimo quindi lei le dà un taglio molto cacciarone le vado dietro a un certo punto fai sì e poi parlaci però tu hai fatto no questo gioco questo gioco squillo sì esatto è un gioco satirico sul peggio della nostra società e sul un humor nerissimo sul mondo dei sex worker e lei con veramente malagrazia mi fa sì ma l'obiettivo di questo gioco guardando la camera l'obiettivo di questo gioco è uccidere le donne no allora l'obiettivo di questo gioco è vincere sì ma lo si fa uccidendo le donne no si vince restando gli unici giocatori in gioco come moltissimi giochi in cui sono presenti dei personaggi deve eliminare i personaggi degli altri giocatori in questo modo in questo gioco ci sono diversi modi di farlo uno dei modi possibili tematici per eliminare i personaggi è quello che da quanto ho capito è il tuo reato preferito l'omicidio lei rimane un po' così e il camera la guarda la fa tanto non lo dice ma quanto sei cinico fingi fingi almeno vabbè dopodichè fa ma senti allora questo è un gioco che cosa insegna ai bambini non insegna ai bambini non è un testo pedagogico non è un'opera didattica o morale è intrattenimento ludico per adulti però come mai dai queste risposte politicamente corrette a cosa c'entra la correttezza politica sono logicamente corrette l'intervista non è mai stata mandata in onda ma perché non le hai detto quello che volevano beh ovvio però tu hai avuto molti problemi per questo gioco no? è vero che non c'è mai l'ultima quattro interrogazioni parlamentari sì quattro interrogazioni parlamentari una una shitstorm anche giusto? un sacco sì sì un sacco ma non te ne penti nel senso tu pensi che questo gioco sia sia cioè sei orgoglioso di questo gioco come operazione artistica sì è un tipo di humor alla South Park che è più che legittimo che non piaccia io trovo di uno sterile parlare in termini assoluti di cosa si può e non si può scherzare di cosa sia l'arte o non sia l'arte come se fossero termini con significato univoco tipo tavolo o penna ognuno fissa il suo limite ognuno ha la sua sensibilità è giustissimo così infatti io non te lo impongo le due critiche mosse al mio gioco sono solitamente è offensivo ma lì ti rispondo non è nei programmi ministeriali non ci giochi contro la tua volontà se non ti piace questo humor e il disclaimer ti avvisano non ci giochi ed è è diseducativo ecco questo me lo devi dimostrare che l'intrattenimento ludico dia forma ai valori di una persona è una tesi che si sente dagli anni 70 che il rock fa diventare assassini che i film horror fanno diventare violenti ad oggi tuttora indimostrata se però uno riesce a dimostrarmela allora mi metterò in discussione no quindi non penso di aver fatto nulla di male ed è un top seller mostruoso siamo qualcosa come 60.000 copie vendute ok ok mi ha incuriosito mi nonno me ne pento mi ha incuriosito tantissimo perché appunto diciamo che sembra quasi che te le vai a cercare però in realtà è una cosa che tu fai anche perché ci no tu fai perché ci credi nel senso tu vuoi rivendicare anche la tua possibilità di esprimerti con queste cose con questo gioco che diciamo ti sei portato dei nemici in casa che forse non avresti mai avuto con anche il tuo il tuo lavoro cioè forse questo gioco è stata la cosa che veramente più di tutti ti ha portato problemi nella tua vita e quindi mi chiedevo appunto se avresti mai avuto dei pentimenti ma mi hai già risposto che non è così guarda riguardo le scelte artistiche che ho fatto penso che la cosa più onesta che io possa dire è ci sono cose di cui mi vergogno ma che tornando indietro rifarei questa è la la degna conclusione di questa live ok no allora devo dire è stata super interessante io spero tra l'altro che in futuro potremo approfondire altri punti sarebbe bello riorganizzare una checcherata tra non so qualche mese senza volerti rubare troppo tempo perché immagino tu sarei comunque impegnato in questo momento come tutti i cantanti sei in difficoltà cioè sei in difficoltà non hai la possibilità di fare il tour che è una cosa che comunque è un problema però insomma veramente è stata interessantissima ci hanno seguito in più di 400 persone tutto il tempo che per il numero dei miei canali è un numero molto alto quindi davvero grazie metterò questa live su youtube anche nei prossimi giorni la toglierò da qua per sicurezza perché appunto non vorrei mi dispiace un sacco no no non ti preoccupare ovviamente se mi bannano verrò a chiederti quantomeno no scherzo no immagino che per chi non è abituato a twitch queste regole poi insomma è normale se uno ce l'ha nel linguaggio perché appunto poi sono epitoli di mie opere esatto esatto sono parte della tua vita da sempre quindi è normale è ovvio che tu non l'abbia usato in modo discriminatorio però sai twitch è così comunque davvero grazie mille e Manuel appunto ti rinnovo rinnovo l'invito delle persone che mi seguono a seguirti se vogliono approfondire il tuo lavoro e niente buonanotte ci sentiremo presto ci teneremo in contatto in qualche modo molto volentieri continuerò a seguirti con grandissimo interesse un saluto a tutti gli amici e amiche che ci hanno seguito buonanotte grazie a tutti